Buonasera a tutti. Do il benvenuto a tutti i colleghi presenti in aula e ai colleghi che sono collegati da remoto per questo corso ECM che si svolge in due giornate. Grazie. Il programma, come vedete, è piuttosto fitto e quindi direi di passare immediatamente la parola ai moderatori della prima giornata, ai moderatori della prima sessione, anzi al professor Altieri, professor Minardi e professor Peliti per la loro presentazione e per le introduzioni al corso. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. благabilità. Grazie. 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 Buongiorno a tutti e grazie per essere partecipi a questo evento. L'abbiamo organizzata anche quest'anno nell'ottica, diciamo, di una interazione che è sempre più confermata nella pratica clinica dei rapporti cuore-polmone. Il programma che abbiamo messo in essere con Monafo, Altieri e Periti è un programma che, vedete, è ricco di una serie di relazioni, alcune tipicamente cardiologiche, altre pneumologiche, altre di interazioni tra i vari organi e apparati. E la SARS-CoV-2 ci ha insegnato e ha ripetito ancora una volta il fatto che il corpo umano è fatto di tanti organi che sono tutti funzionalmente collegati. La SARS ci ha fatto vedere come nelle manifestazioni acute può essere coinvolto il polmone, il cuore, la cute, il rene. E lo sforzo che noi stiamo facendo con una comunità sia medica che anche politica a livello internazionale, per rimetterci tutti insieme, di collaborare tutti insieme per cercare di vincere questa sfida che SARS-CoV-2 ci ha messo davanti. Io chiedo scusa se il programma ha subito dei rimaneggiamenti e delle modifiche, ma tutto questo è dovuto al fatto che noi siamo anche dei professionisti che lavorano a fianco dei malati e spesso anche noi veniamo colpiti da malattia. Quindi qualcuno dei moderatori o dei moderatori che non è presente è perché è stato contagiato oppure è in isolamento chirurgiale. E altri invece, come il dottor Di Lullo, di cui sentiremo più tardi la relazione, sono stati costretti a non muoversi dall'ospedale per coprire un turno di lavoro che è rimasto scoperto da un medico malato di Covid. Quindi queste sono le motivazioni per cui il programma è stato un po' rivisto. Spero che gli argomenti che verranno trattati siano di interesse e che portino con il vostro contributo a un aumento delle nostre conoscenze su queste patologie cardiorespiratorie. Adesso do la parola a Giuseppe Munafo per l'introduzione della prima sessione di relazioni. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Si sente bene? Anche voi con la mascherina. Allora, vi ho avuto un ringraziamento non formale a tutti voi per essere presenti. Io sono molto contento perché non è stato facile, però essere riusciti a fare un evento in presenza, oltre che online, ovviamente, ma questo lo facciamo già l'anno scorso online, essere riusciti a fare un evento in presenza in questo periodo che non esito a definire simil bellico, è stato per noi un grande motivo di soddisfazione e vedere la vostra partecipazione richiede da parte mia di darvi un sincero ringraziamento. E quindi sono molto rieto di questo, lo volevo dire. Noi facciamo ormai questo corso da diversi anni, questo corso diciamo è ormai abbastanza stabilizzato nel tempo, e abbiamo sempre avuto la soddisfazione, io insieme a meardi, appelliti, ad artieri che seguivamo l'organizzazione di questo evento, la qualità delle relazioni e di vedere crescere anche la qualità della partecipazione. I relatori di questo corso, anche in particolare queste due sedute del primo e dell'otto febbraio, sono di particolare qualità. Credo che sostanzialmente li conoscete un pochino tutti. Vorrei dare un pochino di indicazioni su quello che abbiamo come obiettivo, diciamo, di aggiornamento medico per quanto riguarda il corso di quest'anno. No, abbiamo voluto, naturalmente parleremo di Covid, naturalmente parleremo di patologie gravi, non solo di Covid, lo faremo con relatori esperti, abbiamo voluto dare un certo filo conduttore. Oltre a, diciamo, il fatto che nell'Accademia da 300 anni di storia c'è sempre un approccio che noi ve l'avete sempre visto nelle relazioni, lo vedete anche questa volta, di tipo sostanzialmente culturale, quindi un aggiornamento medico legato a un concetto di cultura più generale, più diversale. Questo è sempre stato lo spirito dell'Accademia Lancisiana. In particolare, in queste due giornate, abbiamo dato questa indicazione, parlare del complesso e del difficile in modo semplice, che, diceva Leonardo, è una cosa che è difficile, ma è da ricercare con la massima attenzione. Quindi parlare del complesso in maniera anche semplice. E da questo punto di vista abbiamo dovuto dare alcune indicazioni, anche ai relatori. Per esempio, diciamo, l'approccio anche strumentale al paziente, che sia un approccio gestibile facilmente, un approccio che ci permetta di utilizzare strumenti semplici, per esempio il saturibetro, la radiografia del torace, ma in maniera qualitativamente diversa. Non voglio insistere troppo su questi concetti, li verrete svolti nel corso delle due giornate. Sono in presenza, ecco, come dicevamo prima, c'è anche una notevole partecipazione online. Ma due parole solo di presentazione per quanto riguarda la prima relazione che sarà presentata dalla dottoressa Maria Giacomo D'Azzotti. Sarà una delle relazioni centrali. Allora, sarà una delle relazioni centrali, parlerà subito dopo la mia introduzione, mi segnalava Giovanni Minardi. Sarà una delle relazioni centrali perché la dottoressa Maria Giacomo D'Azzotti tanti anni fa ormai fu una mia allieva negli anni lontani in cui insegnavo la scuola di specializzazione. Poi fece la tesi con me, mi ricordo ancora sugli disturbi del sonno legati anche alla sindrome metabolica. Poi ha lavorato con me quando anni fa ormai facevo il primario a Latina e sono ricordi ormai lontani, ahimè per me, ma la dottoressa soprattutto ha un'enorme esperienza perché ha seguito centinaia di casi Covid in ospedale, fuori dall'ospedale prima nei casi leggeri e dei long Covid. Quindi è una delle esperienze più importanti, è una delle esperte più importanti a mio avviso oggi di Covid che ci siano in Lazio. Quindi sarà una delle relazioni centrali quelle di Maria Giacomo D'Azzotti. Non voglio rubarmi oltre per quanto riguarda la presentazione generale, ma entro direttamente nel merito della mia relazione. Allora, la mia relazione sarà fatta, diciamo, insieme al professor Binardi. Io farò l'aspetto primologico e il professor Binardi tratterà l'aspetto cardiologico. Ovviamente, diciamo, la relazione, abbiamo dato questo titolo semplice, e inizia con l'aspetto cardiologico. Io tratterò brevissimamente alcune metodiche strumentali che sono di facile utilizzo a domicilio del paziente. E parto dall'esame che rappresenta, diciamo, la base della valutazione cardiologica in tutti i pazienti. L'elettrocardiogramma. Quando ero giovane medico e cominciai ad occuparmi di elettrocardiografia come cardiologo, era un esame che richiedeva tantissimo tempo, richiedeva una strumentazione molto particolare per evitare artefatti, veniva registrato con molta attenzione, veniva interpretato successivamente, perché veniva stampato su carta fotosensibile. quindi registrare un elettrocardiogramma non era una cosa semplice. Veniva fatta esclusivamente da medici. Nel tempo poi l'elettrocardiogramma è diventato un esame di routine, lo fanno tranquillamente gli infermieri o lo fanno dei tecnici che sono in grado di fare l'elettrocardiografia. Le macchine sono diventate sempre più sofisticate. Insomma, per farla breve, attualmente l'elettrocardiogramma si può fare tranquillamente anche a domicilio del paziente con elettrocardiografi molto semplici e spesso automatizzati con una lettura abbastanza accurata della riflettazione elettrocardiogramma. E questo è un tracciato, come voi vedete, decisamente normale. L'elettrocardiogramma, attraverso la valutazione dell'attività elettrica del cuore, permette di valutare tutta una serie di situazioni cliniche che vanno dai disturbi del ritmo cardiaco e che vedete in questa striscia superiore, vedete un elettrocardiogramma di una fibrillazione atriale in cui l'assenza di onde P da contrazione atriale, o meglio, la moltitudine di onde P dovute all'attività elettrica disorganizzata negli altri comporta un'attività atriale molto rapida e irregolare e un'attività ventricolare molto più lenta. E poi vedete sotto il ripristino del ritmo sinusale. Bene, l'elettrocardiogramma fa benissimo vedere sia le alterazioni del ritmo tipo la fibrillazione atriale che eventuali ripristino del ritmo sinusale. Poi ci dà altre informazioni sulla propagazione dell'impulso elettrico all'interno delle gambe cardiache. E qui vedete in questa striscia qui un coerese sallargato con aspetto blocco di branca-destra. Quindi i blocchi di branca oppure i blocchi atriventicolari, i blocchi sia di primo, secondo che terzo grado. Quindi altra informazione importante, questa soprattutto è molto importante nei pazienti che presentano sincopi lipotimici o addirittura delle sincopi. Vedete se c'è sotto un blocco atriventicolare, per esempio. Poi altre informazioni che vengono risunte dall'elettrocardiogramma sono le compromissioni cardiache conseguenti ad alcuni eventi. Qui vedete chiaramente in questo elettrocardiogramma un soprassivellamento del KST che è tipico, quando è presente in alcune derivazioni contigue, è tipico di una lesione ischemica. L'infarto del miocardio ha il KST sopra, che è la forma, diciamo, più importante di infarto perché richiede una immediata individuazione e un immediato trattamento di perfusivo, viene appunto vista, viene diagnosticata attraverso un semplice elettrocardiogramma che evidencia un soprassivellamento del TAP ST. Però vedete che l'elettrocardiogramma può modificarsi, lo sappiamo tutti, in condizioni tipo uno stato ipertensivo che determina un'ipertrofia metricolare sinistra attraverso un aumento dei voltaggi del QRS oppure altre situazioni come per esempio la pericardite che poi vedremo si distingue dall'infarto acuto perché presenta un soprassivellamento del TAP ST in tutte le derivazioni elettrocardiografiche. Recentissimamente, visto che stiamo vivendo il periodo della pandemia del Covid-19 è uscito questo articolo fatto dalla Meglio Clinic in cui hanno associato la lettura e interpretazione dell'elettrocardiogramma all'intelligenza artificiale. Gli autori di questo articolo sottolineano il concetto che nell'attuale pandemia il virus entrando nelle cellule determina delle alterazioni non solo metaboliche ma anche elettriche talvolta minimali che attraverso una interpretazione dell'elettrocardiogramma collegato con l'intelligenza artificiale permette di slatentizzare diciamo questi pazienti dal punto di vista delle infezioni. soprattutto questa tecnica ha mostrato un potere e un valore preventivo negativo elevatissimo superiore al 90%. Quali sono le alterazioni elettriche che si possono manifestare nei pazienti col Covid-19? Sono manifestazioni elettriche acute dovute a meccanismi compensatori dell'infezione tipo la tachigardia e questa si trova sia nella fase acuta del Covid sia a distanza io sto seguendo da tempo i pazienti che hanno avuto il Covid e molti di questi a distanza di tempo presentano ancora alterazioni del ritmo cardiaco. Poi alterazioni secondarie agli effetti sulle strutture cardiache polmonari per esempio un grosso interessamento coinvolgimento polmonare bilaterale può portare in una dilatazione delle cavità cardiache di resta addirittura una ridotta funzione del venticoloreste e poi l'interazione tra Covid e recettori ac2 che possono dare danno miocambico segni di flomosi e alterazioni nella fase di fibulizzazione. Bene in questo articolo sono state evidenziate alcune cose molto molto particolari vedete nella parte di sopra qui di questo diapositivo vedete che i pazienti senza Covid hanno un pattern elettrocardiografico che mostra delle una normalità diciamo delle onde sia teali che venticolari e della ripolarizzazione. Vedete che invece in fase di pandemia queste alterazioni elettriche sono maggiormente presenti vedete si modifica un pochettino la forma della sommatoria diciamo di tutte le rilevazioni elettriche in questi pazienti che diventa ancora più evidente nei pazienti che sono positivi al Covid cioè man mano che aumenta diciamo la probabilità e la manifestazione del Covid aumentano le alterazioni elettrocardiografico e qui vedete che queste alterazioni possono darci anche una indicazione sull'evoluzione della malattia Covid vedete che aumentano queste alterazioni a mano che aumentano la gravità della malattia e diminuiscono fino a ritornare nella norma a malattia scomparsa e ci sono appunto degli score che vengono identificati attraverso questo sistema di lettura automatica dell'elettrocardiogramma che ci dicono esattamente come avviene l'evoluzione della malattia vedete i malati che vanno a finire in terapia intensiva in rianimazione che vengono ventilati presentano degli score decisamente alterati rispetto ai pazienti con manifestazioni meno gravi di malattia e quindi questa interpretazione elettrocardiografica collegata con l'intelligenza artificiale ha un alto valore proiettivo negativo vedete 99% e che vuol dire che pazienti che hanno un elettrocardiogramma assolutamente normale è molto probabile che non abbiano malattia SARS-CoV-2 un altro esame che deriva diciamo da un elettrocardiogramma che si fa normalmente a domicilio è la registrazione dinamica dell'elettrocardiogramma secondo Oter che ci permette di vedere tutta una serie di alterazioni elettriche che vanno dalla registrazione della frequenza cardiaca nelle varie fasi della giornata in cui il paziente viene invitato a fare un certo tipo di attività e non di starsene a casa fermo lì ma muoviti fai questo fai quest'altro vediamo cosa succede nel corso della giornata e qual è il corrispettivo elettrocardiogramma e poi possiamo vedere se ci sono dei sintomi del paziente che cosa c'è dal punto di vista elettrocardiogramma in corrispondenza dell'attività o dei sintomi dichiarati dal paziente l'oltrecrisorio H24 anche questo è un esame che si può fare a domicilio del paziente e serve ricco di informazioni soprattutto perché permette di monitorare la pressione nelle 24 ore a distanza di tempo pre-programmato dal sistema cioè ogni mezz'ora ogni ora eccetera allora qual è l'utilità della registrazione dell'oltrecrisorio innanzitutto l'accertamento di una ipertensione vera spesso capita nella nostra esperienza che i pazienti vengono allo studio vengono visitati e hanno dei valori pressori superiori alla norma come effetto di quello che chiamiamo white coat e per te ma la cosa che è più importante per me prima di sottolineare è questa valutazione del profilo pressorio nelle 24 ore noi sappiamo che fisiologicamente la pressione durante le ore notture cala e questi pazienti in cui c'è un calo della pressione nelle ore notture sono i cosiddetti pazienti di in cui c'è un calo dei valori pressori di 10-20% però noi assistiamo con la registrazione oltre anche i pazienti non di che quelli in cui non c'è una significativa differenza pressoria fra le ore di urne e le ore notture quindi è come se ci fosse una perente attivazione del sistema simpatico poi sono addirittura i pazienti con reverse dipper in cui addirittura la pressione si modifica durante le ore notturne aumenta rispetto alle ore di urne e poi l'estreme dipper in cui c'è una diminuzione della pressione superiore al 20% allora questo perché è importante capire questo per capire diciamo come funziona il sistema neurovecitativo il sistema di regolazione della pressione arteriosa dei nostri pazienti e vedere se la nostra terapia effettivamente è efficace molti pazienti sono scoperti dalla terapia o nelle ore notturne o nelle prime ore del mattino e qui dobbiamo modulare la terapia intervenendo con dei farmaci distanziati un certo numero di ore in modo tale da coprire le 24 ore l'altro esame che si può fare a domicilio non è molto diffuso perché i permettativi portatili fino a poco tempo fa costavano tanto oggi si possono acquistare si possono fare anche a casa e c'è sempre una maggiore richiesta di prestazioni domiciliari è l'ecocardinale che come voi sapete è ricchissimo di informazioni non solo sull'anatomia del cuore ma solo il funzionamento del cuore sia in condizioni normali che in condizioni patologiche ora ovviamente l'ecocardiogramma va fatta da persone capaci di farlo con ironia apparecchiatura oppure persone che sono state addestrate a fare gli ecocardiogrammi adesso ci sono i sonorografi sono delle figure professionali che vengono addirittura formate all'università che hanno tutte le capacità le possibilità di fare questo però ecco anche l'ecocardiogramma richiede una interpretazione basata sui dati clinici ecco ricordiamoci sempre che tutte le retoriche strumentali devono essere utilizzate in un contesto clinico preciso perché le informazioni vanno interpretate non hanno un valore assoluto ecco una delle applicazioni dell'eco è quella per esempio della valutazione dell'ipertensione polmonare ne parlo qui perché nel nostro simposio parliamo di interazione cuore-pormone vedete ha un discreto valore diagnostico con una buona sensibilità e un buon valore del predittivo negativo come si calcola la pressione polmonare con l'eco è una tecnica molto semplice perché la maggior parte dei pazienti e dei non pazienti cioè dei soggetti normali è presente un piccolo rigurgito tricuspidale il rigurgito tricuspidale nei pazienti con l'ipertensione polmonare ci permette di calcolare di stimare la pressione nel venticolo resto e quindi la pressione sintorica in arteria polmonare facendo due semplici calcoli la velocità del flusso di rigurgito dal venticolo resto al latio destro che applicando le equazioni di Bernoulli divendo un gradiente quattro volte la velocità al quadrato e a questo gradiente si aggiunge la stima della pressione atriale destra a sommatoria dei due ci dice il valore della pressione nel venticolo destro che in assenza di patologie valvolari nella valvola polmonare è il valore della pressione sistolica in arteria polmonare come si calcola la pressione atriale destra attraverso lo studio della vena calo inferiore cioè delle dimensioni e della collassabilità della vena calo inferiore oppure osservando il paziente noi abbiamo la semiotica che ci dice che una giugolare turcida che non collassa con la ispirazione denota un'ipertensione venosa ipertensione venosa centale quindi si presume che la pressione atriale destra sia molto più alta dei 5 mm di mercurio che abitualmente noi stimiamo per la sua valutazione ecco che quando riguarda vedete la vena calo inferiore una vena calo inferiore che è piccola cioè di dimensione inferiore a 18 mm che collassa più del 50% con la ispirazione ci dice che la pressione atriale destra può essere valutata in 5 mm di mercurio che invece la vena calo inferiore è molto miglietta e non collassa dobbiamo aggiungere 20 allo gradiente pressuale venticolo atriale destra per stimare la pressione sistolica polmonare e un'altra tecnica sempre molto alta dall'ecocalibramma è il tempo di accelerazione del flusso polmonare anche questo un valore inferiore a 105 con un'eventuale incisura mesosistorica denota una pressione polmonare aumentata con una sensibilità del 97% e una specificità del 100% questa tecnica non ci dice il valore reale della pressione polmonare ma ci dice che sicuramente è aumentata adesso volevo farvi tre brevissimi accenni di tre casi clinici che mi sono capitate dall'osservazione e che vuole portare alla vostra attenzione per indicare ecco per sottolineare l'importanza dell'elettrocardiogramma e della sua corretta interpretazione all'annuncio dei dati clinici paziente di 60 anni disabile che ha una fibrillazione atriale ad alta frequenza ventricolare lui lamenta cardiopalma e dispnea si fa l'elettrocardiogramma l'elettrocardiogramma evidenzia una fibrillazione atriale con alta frequenza ventricolare e un sottosivellamento del tratto ST ecco qui possiamo vedere la fibrillazione atriale e il sottosivellamento del tratto ST in molte derivazioni ecco questo sottosivellamento vedete è di 3-4 mm e è orizzontale e fa venire molto il sospetto che sia di natura ischerica paziente spontaneamente ritorna il ritmo sinusale senza interventi farmacologici vedete l'onda P quindi il ritmo sinusale vedete che permane il sottosivellamento del tratto ST ora questo sottosivellamento voi dite va beh questo può essere il residuo dell'ischemia che lui si è fatto in corso di fibrillazione cardiopalma bene no perché il paziente ha e esibisce un precedente elettrocardiogramma di anni prime e anche di qualche mese prima in cui questo sottosivellamento è costantemente presente quindi lui abitualmente a questo tracciato la fibrillazione l'ha solo accentuato e la dimostrazione ulteriore è che a rivisti del ritmo sinusale quindi condizioni emodinamiche stabili un eco cardiopalma risulta perfettamente normale con normale ciletica ventricolare e normale frazione di eiezione 68% quindi diciamo quell'elettrocardiogramma da solo poteva far pensare a delle cose poi interpretato bene poi corroborato anche dall'usilio dell'eco permette di eliminare il sospetto della cardiopatia ischemica altro esempio soggetto giovane 50 anni una donna una grande donna pesava intorno ai 120 kg allettata aveva una flebolimpostasi cronica agli arti inferiori e aveva però un processo troppo flebitico alla gamba destra aveva accusato improvvisamente di spenea l'elettrocardiogramma che adesso vi faccio vedere mostra un attacchio di cardia sinusale onde P di tipo polmonare quindi da sovraccarico adiale destro e segni di sovraccarico ventricolare destro ora qui vedete l'elettrocardiogramma e in più vedete c'è anche l'aspetto del blocco di blanca destro con alterazioni secondarie nella fase di rigolarizzazione queste onde P sono molto alte perché vedete il QRS è piccolo quindi perché è una donna molto grossa quindi i voltaggi periferici sono più bassi ma questa onda P è esattamente la metà di un QRS quindi è molto alta ed è nota i segni di sovraccarico adiale ventricolare retta bene questa donna è stata portata di corsa in ospedale aveva un'embolia polmonare massiva bilaterale è stata trattata con trombolisi sistemica e poi ha recuperato tutto ecco in questi casi a supporto ulteriore della diagnosi fatta clinicamente e con l'elettrocardiogramma ci viene anche in aiuto l'eco che può dimostrare alcune alterazioni fra cui la dilatazione del venticolo destro una ridotta contrattività dalla parete libera del venticolo destro mentre l'apice si muove normalmente si chiama il segno di McConnell che è tipico dei soggetti che hanno una embolia polmonare e in questi soggetti si vede la veda cava inferiore che è dilatata e non contrattile e l'ultimo esempio che volevo portare è del valore dell'elettrocardiogramma nel sospetto di pericardite bene nei pazienti covid ci sono due manifestazioni cardiache importanti che sono la pericardite e la miocardite e la pericardite la pericardite in un soggetto in questo caso era un soggetto covid posto sopra il sivellamento del tratto ST in tutte le derivazioni ora questo tipo di modificazione elettrocardiografica pone due quesiti due ipotesi o una pericardite o una miocardite cioè un processo infiammatorio che coinvolge tutte le camere cardiache quindi in questo caso non potendo dirimere il il dubbio dal punto di vista elettrocardiogramma che c'è l'incontro l'eco l'eco che dimostra uno scollamento sistobiastonico dei foglietti pericari una falta liquida che circonda completamente le camere cardiache quindi questo era volevo sottolineare che questi semplici esami strumentali che possono essere fatti a domicilio del paziente ma che vanno fatti su precisa indicazione clinica e correlando insieme i dati strumentali con i dati clinici vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti prima di procedere non so se qualcuno ha qualche quesito da porre al professor Minardi prego il professor Mollica aspetta curato che ti porterò il microfono se no non sentiamo nulla anche per l'età abbiamo un problema di acustica bravissimo grazie Giovanni in buon momento volevo sapere cosa ho stato a te di fare il pensato del grande l'arte in corso in po grazie dipende un po dal tipo di coinvolgimento cardiaco le modificazioni elettrocardiocardiche possono essere alterazioni della frequenza cardiaca e del ritmo cardiaco quindi prevalentemente tachytergia e poi aritmie che possono essere sopraventricolari o ventricolare dal punto di vista poi della depolarizzazione della ripolarizzazione alterazioni aspecifiche del tratto st modificazioni dell'onda t in senso di appiattimento negativizzazione oppure di sopra sivellamento del tratto st in più derivazioni non limitato a derivazioni contigue e basta cioè se viene sopra sivellamente da v1 a v3 e tutte le altre derivazioni hanno un ST normale è poco probabile che si tratti di un miocardite o di una pericardite bisogna andare a vedere senso ischemico soprattutto se il paziente ha dolore toracico vai a fare una valutazione del senso ischemico quando fai il dosaggio delle troponine e vedrai che questo paziente ha le troponine alte e se che sopra il dolore toracico questo è da mandare al fondo soccorso e inviare rapidamente in emodinamica ci possono essere anche alterazioni della conduzione intraventricolare me è capitato di trovare i pazienti con blocchi di branca non presenti in precedenza ora il blocco di branca destro è assolutamente compatibile con un interessamento polmonare quindi pazienti che hanno coinvolgimento polmonare bilaterale possono avere un sovraccarico destro e addirittura un blocco di branca destro di nuova insorgenza il blocco di branca sinistro è il loveno meno probabile si può verificare ugualmente però la letteratura e anche le linee guida ci dicono che il blocco di branca sinistro di nuova insorgenza va valutato prima di tutto in senso ischerico e viene considerato un equivalente di un ST di uno stemi cioè un infarto a ST sopra il dolore toracico BBS di recente insorgenza il paziente fa mandato di corsa in ospedale facendo le tropoline avranno un ulteriore conferme e quindi poi segue l'iter diagnostico dell'emodinamica o della trombolisi queste sono più o meno le manifestazioni se invece l'ST è diffuso di tutte le derivazioni c'è il problema mio caldino per i caldini allora lì vi diamo silo d'Eco prego complimenti Giovanni volevo non solo integrare una cosa che ci puoi dire qualcosa sulle complizie pulmonarie per i caldini 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 sia che indicativi di condizioni l'onorale non paremmo anche utilizzare l'arrizzamento per i caldini però io prego che potete rispondere qualche paura molto volentieri nella non ho con me le diapositive non le ho portate adesso per questa relazione le porto se mi permettete o a fine giornata se riesco a prendere dal mio computer oppure le portano per martedì prossimo ho ho fatto delle slide proprio su questo aspetto dell'ecografia pulmonare e riservandomi naturalmente cioè mi è molto comodo per non usare un altro termine la relazione che farà poi il professor Pedicelli sugli aspetti radiografici del polmone così possiamo mettere anche insieme le informazioni risunte dal punto di vista radiologico con quelle che si possono fare con l'eco bel site d'accordo? comunque il discorso delle comedia non solo quelle perché le comedia sono relative soprattutto all'imbibizione del polmone dal punto di vista liquido però qui si tratta anche di vedere zone di atelettasia soprattutto alle basi dei polmoni e la scarsa mobilità delle basi che si può valutare anche con l'eco bene allora parleremo della utilità della diagnostica strumentare a domicilio per il cardiologo e l'opneonologo ok lo accennavamo prima e quella breve introduzione che ho fatto questa frase di Leonardo da Vinci la semplicità e l'estrema perfezione senza raggiungere ovviamente i suoi livelli ma vorrei che fosse un pochino il lume che ci guida in queste due giornate e che in genere dovrebbe guidare sempre l'intervento del medico se non l'intervento generale dello scienziato mi piace ricordare l'ho già detto qualche altra volta e qualche altra relazione che Leonardo da Vinci ha lavorato proprio qui dove noi siamo alcuni dei disegni anatomici bellissimi che lui fece sono stati probabilmente fatti proprio qui all'ospedale Salto Spirito la semplicità è l'estrema perfezione ma vorrei aggiungere anche questa frase di Montesquieu quello che agli oratori manca in profondità lo danno in lunghezza cercherò quindi di essere breve e parliamo di cose semplici apparentemente forse semplici il pulsosimetro o saturimetro uno strumento che tutti pensiamo di conoscere ma non si finisce mai di approfondire di comprendere e se tra l'altro uno strumento di semplice utilizzo sia di uno stato fondamentale in pneumologia voi sapete benissimo come è stato utilizzato nel corso del covid e come il covid tra tutti ovviamente i suoi aspetti negativi ha portato anche la diffusione di alcune conoscenze una di queste è proprio quella del saturimetro ormai ogni medico di famiglia utilizza facilmente questo strumento e ne ha capito l'importanza cosa che non era affatto ascoltata in precedenza durante la pandemia si è dimostrato indispensabile nella gestione dei pazienti non solo a domicilio ma anche ovviamente in ospedale certo gli anestetisti gli animatori e i pneumologi l'hanno sempre utilizzato ma attualmente è estremamente più diffuso e si sono compresse meglio alcuni aspetti di questo strumento che oggi cercheremo di analizzare una cosa che ci colpì molto a noi pneumologi due anni fa ormai all'inizio di questo tragico periodo pandemico è il fenomeno della epiposemia ovvero l'iposia felice è un fenomeno che si è verificato nel corso della pandemia da covid e che inizialmente ha creato un certo sconcerto tra i medici pneumologi è il cosiddetto fenomeno dell'iposia felice che significa questi pazienti si presentano senza affanno e non si rendevano tante volte conto della loro gravità mi ricordo che sentivo anche Maria Gioconda Zotti per telefono tante volte in quel periodo avevate qualcosa tipo settecento ricoverati di un anno fa se ben ricordo in tutto l'ospedale di Latina e mi diceva professore io non ho mai visto una cosa simile il paziente arriva non si rende assolutamente conto di star male naturalmente in questo frangente il saturimetro si dimostrò prezioso tanto è vero che poi l'irie guida che tutti quanti avete visto anche su internet eccetera per quanto riguarda il trattamento anche domiciliare delle primissime fasi della covid consigliamo a tutti quanti di utilizzare il saturimetro perché il saturimetro permise di vedere che questi pazienti apparentemente in relativo benessere erano in realtà gravemente ipossiemici pazienti che andavano direttamente ventilati con una ventilazione almeno non invasiva anche perché all'inizio poi non si comprendeva questo magari lo dirà anche Maria Gioconda Zotti l'importanza della ventilazione non invasiva si comprese solo successivamente forse voi ricordate che due anni fa tutta una serie di pazienti furono intubati ventilati in maniera invasiva perché si pensava che la ventilazione non invasiva non fosse efficace si è capito bene nel corso a livello internazionale nel corso delle settimane e dei mesi successivi invece l'estrema efficacia della ventilazione non invasiva e ce ne parlerà poi in maniera ancora più approfondita Maria Gioconda Zotti quindi dicevamo che questi pazienti si presentavano non dispnoici non avevano coscienza della loro gravità e il saturimetro rilevava valori bassi di saturazione rilevavano su uno strumento indispensabile nella gestione dell'insufficienza respiratoria da covid facciamo un pire intermezzo quali sono le carose di questa epi iposimia fondamentalmente diciamo si è compreso non è stato facile in realtà comprendere quali sono i meccanismi fisiopatologici alla base di questo inizialmente non c'è un incremento della piaceo 2 della pressione arteriosa parziale di anidride carbonica questo qui è l'incremento della piaceo 2 è una delle cause diciamo che danno la dispnea che danno l'incremento della frequenza respiratoria che danno anche la sensazione della dispnea che la dispnea è un concetto in realtà estremamente complesso è una qualcosa che è al limite tra la obiettività fa parte dell'esame obiettivo noi scrive il paziente appare dispnoico e la ramenisi noi diciamo il paziente riferisce dispnea non esiste per altri sintomi chiamiamola sintomo qualcosa del genere la dispnea in realtà è un fenomeno estremamente complesso non entreremo adesso nel merito della dispnea vorrei soltanto rilevare perché quello che abbiamo capito per quale motivo in particolare nella happy eye tossimia non c'è questa almeno inizialmente non c'è questa sensazione diciamo di dispnea quindi una delle cause è sicuramente il mancato incremento iniziale della PCO2 quindi abbiamo una ipossimia un abbassamento dell'ossigeno nel sangue diciamo senza un incremento dell'anidride carbonica però quello che è stato abbastanza chiarito e direi che è piuttosto certo al momento che c'è anche un danno diretto da parte del virus sui recettari neurologici di ipossimia che pertanto non intrucono dispnea forse oltre a non indurre dispnea non danno neanche al paziente è quella che è la sensazione di dispnea qui vedete molto rapidamente alcuni meccanismi di questo estremamente complesso sistema che regola il gas che regola la sensazione di dispnea che regola l'incremento respiratorio come tutti voi sapete ci sono interazioni tra il sistema nervoso periferico il sistema nervoso centrale c'è il ponte nella quale avvengono molte delle regolamentazioni legate all'incremento della ventilazione c'è anche la corteccia frontale che è quella della sensazione di dispnea i recettori periferici del nervo vago ci sono i meccanismi recettori nei muscoli dello stretching muscolare la fatica muscolare che è tipica poi delle fasi anche più avanzate dell'insufficienza respiratoria e qui abbiamo anche qualche esperto come per esempio il mio amico Corrado Mollica ma anche Luca Cecchini che conoscono molto bene questo tipo di meccanismi non ci soffermeremo comunque a lungo su di questo altrimenti faremo una relazione un pochino troppo lunga e molte schie si arrabbia allora invece questo schieno qui è abbastanza semplice ma molto chiaro io ritengo perché mette in rapporto l'ossigenazione con il recorso nel tempo e noi vediamo che la sensazione di dispnea qui questa linea grigia che qui si vede male per motivi legati alla poiezione vedete che qui però si intravede l'articolo di dispnea riuscite a leggerlo ecco vedete come all'inizio abbiamo una ossigenazione normale al decremento della ossigenazione non si ha una dispnea la dispnea inizia solo nella fase più avanzate della ipossemia e questa che appunto abbiamo definito come ipossia felice in rapporto molto netto molto stretto con il percorso nel tempo della patologia queste sono cose che capimmo nei primi mesi della pandemia e ci hanno molto aiutato perché noi sappiamo che nelle prime fasi della patologia dobbiamo utilizzare un certo approccio terapeutico nella fase successiva dobbiamo utilizzare un altro approccio terapeutico non è qui il momento adesso di parlare di questo magari ne parleremo pens'altro più avanti nel corso del programma di queste due giornate e fino alle fasi più avanzate nelle quali naturalmente c'è la necessità di una ventilazione meccanica quindi dicevamo ritorniamo sull'argomento che il corso simetro è uno strumento di semplice utilizzo fondamentale in pneumologia durante la pandemia si è dimostrato indispensabile nella gestione dei pazienti quali sono i vantaggi del saturimetro semplicità d'uso non c'è molto da aggiungere utilizzo nelle circostanze più disparate a domicilio per esempio sempre per ritornare al filo conduttore un po' di queste due giornate poi una cosa che ritengo molto autocontrollo del paziente questa è una cosa che a me interessa molto io ritengo che più si va avanti più il paziente diventa cosciente dico si va avanti negli anni nello sviluppo della medicina più il paziente diventa cosciente di quelle che sono le due patologie il rapporto tra medico e paziente io mi sono laureato 49 anni fa è molto differente rispetto a quello che era mezzo secolo fa quando io mi sono laureato allora io lo racconto spesso ai miei pazienti io dicevo faccia questo dava una terapia non dicevamo neanche la diagnosi il paziente lo faceva e stava neanche chiedeva oggi questo approccio non esiste più da tanti anni stiamo parlando di mezzo secolo fa oggi il paziente vuole sapere tutti gli aspetti negativi che tutti quanti ci sono ma a mio avviso con gli aspetti positivi che sono dominanti quindi il paziente vuol sapere è giusto che sappia ma il paziente va responsabilizzato questo ritengo io quindi l'autocontrollo che può essere quello dei valori pressori quello del peso corporeo nel nostro caso quello della saturazione è fondamentale soprattutto ci permette anche di avere un approccio diverso perché l'emogassonale è sicuramente uno strumento importantissimo e dispensabile ma è momentaneo è come l'attack del torace lo puoi fare in quel momento là non lo puoi fare a ripetere una volta al giorno una regolafia del torace sì se il paziente di rianimazione la puoi fare e rifare al giorno dopo il saturamento permette di dare al paziente le istruzioni per l'utilizzo permette di utilizzarlo nella vita normale nella real life io lo faccio fare regolarmente i miei pazienti mi portano un viario e io vedo che cosa succede a questo paziente che cosa succede quando fa sport quando cammina veloce che cosa succede quando sta male quindi l'autocontrollo del paziente è un altro diciamo delle cose positive che ci può fornire questo apparentemente semplice strumento o forse semplice strumento quindi naturalmente è molto importante anche per questo lo sappiamo tutti l'utilizzo del saturimetro per valutare anche quanto ossigeno stiamo dando il paziente nei pazienti anche a domicilio che fanno ossigeno terapia a lungo termine per esempio in ospedale non ci soffermeremo ulteriormente allora vediamo qualche molto velocemente qualche dettaglio tecnico che cos'è un saturimetro quindi la sonda del saturimetro è composta da due diodi e da una fotocellula i due diodi emettono una luce dal campo rosso e una dell'infrarosso questa luce attraversa i tessuti del paziente fino alla fotocellula può essere dal dito può essere dal lombo dell'orecchio eccetera lo sappiamo bene l'epoglobia allegata assorbe le luci a determinate lunghezze di onda conoscendo quindi la quantità di luce iniziale messa e quella finale la perichiatura è in grado di calcolare la saturazione dell'ossigeno nel paziente indicata con l'abrilezione spO2 il saturimetro in basso su un diverso spettro di assorbimento dell'emoglobina cioè dell'emoglobina non legata e dell'HBO2 cioè dell'ossiomoglobina l'emoglobina legata all'ossigeno in pratica il fascio luminoso attraversa il dito nella diciamo la differenza di assorbimento dello spettro della luce tra i due tipi diversi di emoglobina quindi in realtà il saturimetro si dice la differenza tra quant'è l'emoglobina satura e quant'è l'emoglobina non satura la percentuale di saturazione è fondamentale comprendere questo perché ovviamente è uno strumento che ha dei vantaggi notevoli rispetto alle analisi e delle criticità rispetto alle emoglobine analisi ma anche l'emogassanalisi ha dei vantaggi e delle criticità nei confronti del saturimetro vedremo tra un po' più quali sono quindi il pulsosimetro il saturimetro non consente di stabilire quale sia la molecola a cui è legata l'emoglobina cominciamo a vedere qualche criticità ma solo la percentuale di emoglobina legata vedremo tra un po' che significa un pochino più chiaramente di norma l'emoglobina lega l'ossigeno per cui si può ottenere una stima nella quantità di ossigeno presente nel sangue e questo è quello che facciamo normalmente ma dicevamo il saturimetro valuta la percentuale di saturazione dell'emoglobina ci possono essere dei falsi negativi per esempio l'intossicazione da un ossido di carbonio un paziente che ha un'intossicazione da un ossido di carbonio da una stufa malfunzionante per esempio sappiamo che l'emoglobina si lega all'ossido di carbonio in maniera sostanzialmente quasi irreversibile e impedisce quindi poi alla molecola di ossigeno di legarsi con l'emoglobina ma il saturimetro non è in grado di distinguere se l'emoglobina è legata all'ossido di carbonio oppure invece legata all'ossigero per cui il saturimetro potrebbe dare dei valori normali nei casi in cui c'è un aumento del monossio di carbonio è importante questo forse più che dal punto di vista pratico dal punto di vista della comprensione dell'assunzionamento di questo strumento poi ci possono essere dei falsi positivi il conosciamo tutti questi in realtà il saturimetro vi può dire vi può dare un valore di saturazione bassa per una semplice scarsa santificazione periferica un paziente ipoteso un paziente con le dita fredde con una vasopostensione periferica da freddo per alcune patologie che conosciamo bene come per esempio gli sclerodermici che hanno una scarsa irrorazione periferica che se devo dire nella mia esperienza degli sclerodermici che se voglio utilizzano il saturimetro e in genere funziona ovviamente comunque va sottolineato questo aspetto allora le cause tra virgolette normale di bassa saturazione di ossigeno abbiamo compreso adesso che il saturimetro ci dice quant'è la saturazione di ossigeno è quello il parametro tra le cause se c'è l'ipossiemia ovviamente abbiamo visto che non è sempre l'ipossiemia ma ci possono essere abbiamo detto dei falsi positivi o delle discrepazze con l'emogastanalisi entriamo nel campo anche di qualche altra patologia più rara ma poi alla fine neanche così rara per esempio abbiamo delle varianti anomale dell'emoglubina alcune varianti anomale dell'emoglubina non capaci di trasportare esattamente l'ossigeno possono dare dei falsi positivi quali sono questi parametri per esempio la metemoglubina poi la vedremo meglio la sulfermoglubina ma per esempio possono esserci alcuni casi anche dei coloranti intravenosi sappiamo tutti che ci sono anche delle possibilità di anomalie diciamo di pulsazione o di sanguificazione periferica contaminazione dalla luce ambiente meno rare tra queste sono in realtà le cause legate alla metemoglubina della quale parleremo tra un momentino quindi qui andiamo un po' velocemente perché sono le cause generali di iposemia vera che conosciamo tutti quindi abbiamo le cause polmonari che sono quelle illuminanti quindi ovviamente la insufficienza ventilatoria l'enfisema l'asma la polmonite e le cause cardiache come per esempio lo shunt destro-silistro i difetti cardiaci atlosentali la trasposizione delle gravi arterie la tetralogia di Fallot non entreremo naturalmente nell'ambito di tutte queste patologie mi interessa invece continuare un po' il discorso sulla presenza delle differenze tra il saturimetro e il trole e l'emogas analisi i risultati positivi al saturimetro quindi una S più 2 bassa intendo dire in presenza di falsi negativi all'emogas analisi possono esserci può esserci un'emogas analisi nella norma con una saturazione di ossigeno bassa al saturimetro lo abbiamo accennato prima avevamo detto ci torneremo un pochino più specificamente in particolare la S più 2 può risultare bassa in presenza di metaemoglobina alta la metaemoglobina alta può essere una patologia primitiva congenita o acquisita cosa succede dal punto di vista fisiopatologico nella metaemoglobina rispetto all'emoglobina il ferro del gruppo dell'eme ha lo stato ferrico anziché a quello ferroso il cambiamento dello stato di ossidazione priva la molecola della capacità di legare reversibilmente l'ossigeno quindi diciamo in questo caso possiamo avere una S più 2 bassa cause comuni di elevata metaemoglobina non ci si pensa praticamente mai però in realtà noi vediamo poi spesso dei pazienti che hanno una saturazione bassa in presenza di un'emogassanalisi normale ad esempio e poi non ci rendiamo conto di qual è il motivo reale è un evento che in epidemiologia succede anche piuttosto frequentemente io volevo sottolineare appunto che una delle cause più frequenti in realtà è disconosciuta è proprio la metaemoglobina cos'è la metaemoglobina abbiamo già detto dove si chi si verifica bambini di età inferiore a 4 mesi esposti a vari agenti ambientali quindi in neonatologia è frequente avere questa la presenza di questa diciamo non la emoglobina nelle donne in gravidanza che sono considerate vulnerabili alle esposizioni di alti livelli di nitriati anche nell'acqua potabile è stata dimostrata la presenza di emetaemoglobina una patologia congenita è la carenza di cintocrom B5 reduttasi il deficit di glucosio 6-fosfato dei drogenasi il cosiddetto favismo che è molto diffuso in l'area mediterranea abbiamo molti casi si associa quasi sempre alla presenza di emetaemoglobina quindi un paziente di questo tipo avrebbe indagato anche per la presenza di favismo facendo il semplice dosaggio della glucosio 6-fosfato dei drogenasi la presenza di un'emoglobina normala che si chiama emoglobina M la carenza di piruvatochinasi queste sono tutte condizioni che o producono i pericolbina oppure in presenza di l'assunzione di alcuni tipi di farmaci possono più facilmente dar luogo alla presenza di metaemoglobina i farmaci sono numerosissimi aggetti anestetici locali ad esempio una persona che vada al dentista e fa un'impiantazione locale con un anestetico locale sviluppa e può sviluppare frequentemente una metaemoglobina ma anche i farmaci usiamo normalmente clorochina nitrati nitroglicerina fenacetina chinoli e sulfonamidici semplici sulfamidici ambienti ambientali ammini aromatiche arsina clorobenzene cromati nitrati dei quali abbiamo già parlato la situazione può essere causata da la rigestione di semi di fave di fave fresche e questo abbiamo già detto e questa è collegata strettamente col favismo col deficit genetico di glucosio 6-fosfato del eterogenasi la diagnosi poi è abbastanza semplice che avrebbe fatto di rubine tutti i pazienti che presentano una bilirubina indiretta anche livellamente positiva la terapia in questi casi consiste nella somministrazione di farmaci riducenti come il blu di metilene un discorso simile è quello che riguarda la solfo emoglobina un atomo di solfo viene incorporato nella molecola dell'emoglobina generando solfo emoglobina la combinazione tra solfo e ferro dell'eme avviene con un legame irreversibile e genera un pigmento verde nelle fasi più estreme incapace di trasportare l'ossigeno quali sono le cause della solfo emoglobina farmaci e sostanze chimiche abbiamo già accennato prima i sulfamidici ma anche i nitrati al dapsone al suma triptan un farmaco piuttosto utilizzato frequentemente utilizzato in clinica il paziente si presenta con una colorazione variabile ma naturalmente si vede solo con i fasi più avanzati dal verde all'astro del sangue della punta dell'emoglobina il trattamento è semplice della sospensione dell'esposizione al fattore causale non sono noti antitodi questo è un esempio di sangue come appare nella meta emoglobina preso dal New England del 2019 e quindi dicevano per quanto riguarda la anomale varianti della 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 emoglobina quindi questa incapacità di legare bene all'ossigeno e di collegarsi alla e di essere rilevate anche alla saturazione diciamo questo era l'argomento che mi interessava sviscerare di più perché nel saturimetro come dicevamo all'inizio c'è tanto Leonardo pensiamo tutti di sapere molto ma come vedete c'è molto da imparare e anche per me ancora molto da studiare sul reale utilizzo del saturimetro adesso andremo un pochino più veloci perché su questi altri strumenti semplici in pedagogia che è la chiave della mia relazione penso che sappiamo un pochino di più tutti quanti qui abbiamo un apparecchio per misurare la quantità d'aria contenuta per il polnum in un disegno fatto in questo libro di Napoli del 1756 una specie di primitivo piccolo spirometro insomma noi abbiamo cominciato a lavorare molti anni fa con gli spirometri a campana adesso gli strumenti sono molto più brevi ma non entraremo nel dettaglio degli strumenti spirometrici non parleremo neanche della spirometria come curva perché abbiamo ormai da tanto tempo sottolineato noi pneumologi come la spirometria sia notevolmente sottoutilizzata è impressionante vedere la quantità di pazienti pneumologici che non hanno mai fatto una spirometria non c'entreremo perché abbiamo già affrontato l'argomento diverse volte ma le curve spirometriche sono talmente significative che anche la morfologia che noi vediamo nella curva è una morfologia che già da sé indipendentemente dai valori ci dà subito un'indicazione quindi non voglio entrare nel merito di questo anche per lasciare spazio alle altre relazioni però lo ripeto ancora una volta lo diciamo sempre nelle nostre relazioni la spirometria va fatta a ogni paziente con problemi respiratori e di base avrebbe fatta un pochino a tutti non solo a chi fa sport una cosa invece che voglio dire è questa perché è un altro dei miei io vi fissi diciamo il misuratore di piccolo flusso anche qui è uno strumento estremamente semplice credo che più o meno tutti quanti lo conoscete questo è il mini ride più diffuso uno strumento che costa pochissimo ma che è l'unico strumento che realmente permette non di misurare la funzionalità respiratoria in senso stretto come fa la spirometria ma permette di monitorarla è un po' come il saturimetro rispetto all'apparecchio per emogassanalisi rispetto all'emogassanalisi il misuratore di piccolo flusso permette di monitorare che significa che il paziente se fa il suo diario bene tutti i giorni può valutare ovviamente guidato dal medico può valutare la necessità di proseguire la terapia la necessità di sospendere la terapia può valutare la le crisi del paziente sono rilevate in una maniera semplice ma veramente chiarissima da questo semplice strumento è uno degli strumenti che nonostante le linee guida lo prevedano non viene quasi mai utilizzato dagli asmatici qualche volta dai bambini raramente dagli adulti io consiglio di utilizzarlo sempre in ogni asmatico qui ci sono le indicazioni che dà l'associazione Federasma come si fa il controllo del picco di flusso respiratorio con un misuratore di picco di flusso l'apparecchio si trova facilmente in farmacia e anche su Amazon un apparecchio semplice si deve effettuare la misura stato in piedi controllare il cursore che indica il numero del peff sia sulla posizione zero tenere l'apparecchio in posizione orizzontale stando attenti cose molto semplici stando attenti a non bloccare il cursore con le dita o struire eccetera eccetera ispirare profondamente mantenendo le labbra ben strette intorno al boccaglio buttare l'aria fuori soffiando il più forte possibile scrivere su un foglietto questo che vedete qui è il grafico che il paziente riempie giorno per giorno e poi quando viene alla visita medica dopo un mese dopo due mesi porta allo specialista o al medico di famiglia ci si rende conto in base a questo grafico come è andata nel periodo per ballare la quale paziente non è stato visitato e si è giusta la terapia va bene qualche cosa così in generale questa la curiosità di come cambia la medicina dal tempo questa è una pubblicità su un giornale americano di una cinquantina di anni fa che diceva che i medici quello che fumano come sigarette sono le cameras penso che questa sia una cosa veramente che ci fa capire come sono cambiati i tempi una altra cosa per finire molto velocemente diciamo che ci sono dei parametri che hanno riguardato questa epidemia gravissima che c'è stata che hanno dimostrato la gravità del fenomeno ripeto che possiamo paragonare era un periodo simil bellico se non proprio bellico e la speranza di vita è un elemento hard è un elemento duro che ci permette di avere un dato molto rigido incontrovertibile su quello che succede nel mondo per esempio ve lo dirò anche un pochino scherzando quando mi si dice che non è vero che il Medioevo erano secoli bui io che non sono d'accordo faccio vedere questa diapositiva guardate qui la speranza di vita nell'antica Roma nel 100 dopo Cristo 35 anni nell'anno 1000 25 anni questo ci dice che erano secoli bui adesso lo mettiamo in maniera un po' discorsiva un po' scherzosa naturalmente ma per far competere l'importanza in epidemiologia di certi parametri rigidi bene a proposito di covid c'è da dire che dalla seconda guerra mondiale non è mai successo che l'aspettativa di vita in Italia frontista sia una vita dopo la seconda guerra mondiale è andata sempre più crescendo l'aspettativa di vita negli ultimi due anni l'aspettativa di vita è di vita questo per farci capire davanti a che cosa siamo davanti a quale tragedia stiamo questo è un vecchio libro di circa cento anni fa che ogni tanto faccio vedere che è il mio possesso che il professor Pedicelli me lo invidia molto credo perché fa vedere le radiografie di un secolo fa che poi voi guardate la semplice radiografia del Torace di allora non è molto differente da quella di oggi ma ci dice e ci da talmente tanta informazione ce ne parlerà il professor Pedicelli nella sua relazione questa è Roma a che noi andiamo tutti quanti e vi ringrazio per l'attenzione scusate il mio intervento alla fine della bella relazione di Giuseppe volevo solo raccontarvi la mia ultima esperienza della settimana scorsa signora di 80 anni mi chiama da casa perché da qualche giorno si sentiva svenire appena si alzava dal letto e aveva displea dico signora ho avuto contatti con qualcuno che ha il covid e ci sono problemi dice no no niente sto sempre chiusa in casa dico ha controllato la saturazione di ossigeno dice no dico guarda la faccio vediamo un po' se è stato bene se ci sono problemi di insufficienza respiratoria mi chiama la figlia dopo 5 minuti dicendo la saturazione è buona però mia madre ha 35 battiti quindi il saturimetro aveva evidenziato i normali valori di saturazione di ossigeno ha evidenziato la frequenza catica di 35 battiti sono a corsa a casa avevo un blocco articolare completo dall'attività operale ha messo un pacemaker giusto per dire che il stato limite a volte aiuta anche il cavolo è la circolazione del cavolo di vita perché se tu ti faccio tanto per andare come mi senti è un po' di dirlo ci sono anche un dato in interno che deve di quello che tu ha che c'ha una mano o una scorsione di tutta poi ti dà come passare nei passi mentre l'altra la magica allora diciamo ma si insura sempre un dito a meglio della bandesa o sinistra eccetera è un'altra cosa che mi dica per quanto parliamo di questo dobbiamo mai dimenticare la cellulatocina se io ho un problema di pompa se io ho un problema se io ho di pazza se io ho di alta se io ho un problema di infusione ho di scianti posso avere la qualità normale è una ridotta se c'è azione quindi lo piangi sempre la cellulatologica è una di Grazie a tutti. 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 Buon pomeriggio a tutti. Grazie 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 a tutti. dal covid-19 e quindi avendola studiata adeguatamente ha cercato anche di approfondire tutti gli aspetti che potevano permetterci di gestire meglio questi pazienti e quindi sempre per partire dai principi base, noi abbiamo sempre considerato per valutare la gravità di un paziente con una sindrome di stress respiratorio, quindi ARDS, abbiamo sempre preso in considerazione un rapporto, il rapporto tra la pressione d'ossigeno PAO2 nel sangue e la FiO2, cioè la quantità di ossigeno erogata al paziente per ottenere quella FiO2. Questo rapporto ci ha permesso fino a due anni fa di avere una certa sicurezza nel classificare la gravità dei pazienti con questa patologia e anche di predirne l'eventuale mortalità e quindi sulla base di questo rapporto distinguevamo tre livelli di gravità della ARDS, mild, moderate e severe, a seconda che questo rapporto fosse tra due e trecento, cento e duecento o sottocento. Ovviamente a seconda del valore si decideva anche il trattamento del paziente e il setting assistenziale più adeguato. Nel caso del covid, ovviamente che all'inizio sembrava essere una classica ARDS, ci ha permesso di classificarlo come CO2 e avere dei cinque livelli anziché tre, in cui il primo è non-calz, quindi con un rapporto tra PO2 e FiO2 conservato, sopra trecento. Il secondo, mild-calz, poi mild-moderate, vedete ci sono altri due livelli intermedi, moderate-severe e severe-calz, sempre con un valore PAO2 e FiO2 inferiore a cento. Questa classificazione, ripeto, all'inizio ci ha permesso di capire la gravità del paziente che avevamo davanti, e quindi come comportarci. Gattinoni ha avuto, come vi dicevo, il merito anche di approfondire un po' meglio, diciamo, quello che accadeva al paziente che contraeva questo tipo di infezione, per cui abbiamo visto che in realtà veniva colpito non solo il parenchima polmonale, ma in realtà il microcircolo polmonale e c'era quindi simultaneamente in questi pazienti una vasocostrizione e una trombosi nelle aree ventilate, che portava un'ipoperfusione e un'angiogenesi nelle aree a vetro smerigliato. Vi farò vedere alcune TAC, perché abbiamo parlato di un altro termine che è stato abusato in questi due anni, è ground-blast o vetro smeriglio, perché le alterazioni tipiche di questa polmonite nelle prime fasi erano proprio legate al vetro smeriglio, alla TAC. Ecco, in queste aree c'era un'alterazione importante del microcircolo polmonare, che è una cosa che va tenuta in considerazione. Sulla base di queste osservazioni fatte, Gattinoni ha capito che PO2, FiO2, che avevamo fino ad allora utilizzato, in realtà era molto limitativo. non ci permetteva effettivamente di capire del tutto la gravità, perché c'erano pazienti che a parità di FiO2 non avevano lo stesso rapporto e appunto ci doveva essere qualcosa in più che ci facesse capire perché alcuni andavano male e alcuni invece miglioravano e rispondevano bene alla ventilazione. Si è parlato per la prima volta appunto di silent aitoxemia o eppia aitoxemia che diceva prima il professore. E in questo caso, riprendo l'intervento che ha fatto il collega prima sulla frequenza respiratoria, si è capito che tra i vari parametri da tenere in considerazione per valutare la gravità del paziente, c'era appunto la frequenza respiratoria e inoltre il livello di CO2 nel sangue. Questi due parametri arricchivano molto di più la classificazione di gravità, perché ci davano delle informazioni maggiori. E quindi, accanto all'indice P su F, PAU2 su CO2, è stato introdotto di nuovo il ROX Index, che non è un indice nuovo, in realtà è un indice che già conoscevano bene i rianimatori e i pneumologi interventisti, perché generalmente viene utilizzato per monitorare l'andamento dei pazienti trattati con un dispositivo ad alto flusso. I dispositivi ad alto flusso, per chi non li conoscesse, sono dei piccoli dispositivi che permettono di erogare altri flussi di ossigeno concentrato riscaldato attraverso delle candole nasali, quindi con un notevole comfort del paziente e sono sempre stati utilizzati. Però in questo caso abbiamo preso in prestito questo tipo di indice, che come vedete aggiusta il rapporto P su F per la frequenza respiratoria, che rispecchia la fatica respiratoria del paziente. Infatti, si era notato che questi pazienti che andavano, avevano una frequenza respiratoria aumentata, quindi andavano in fatica respiratoria in realtà, portavano poi a un danno, la cosiddetta P-Sili, ovvero Patients Self-Lang Injury. E questo perché? Perché quando il paziente diventa disnoico, va in stress polmonare e questo aumenta la tempesta citochimica, che già c'è ed è importante in corso del Covid. Se ne è parlato tantissimo dei mediatori dell'infiammazione nel Covid, che provocano il danno al violare e il danno al microcircolo. Ecco, questo ha permesso di fare un altro passo avanti, cioè di capire come aiutare questi pazienti con insufficienza respiratoria da Covid. Si è capito che ventilati in maniera troppo strong, cioè forte, portava un ulteriore danno, sia se ventilati con flussi d'ossigeno troppo elevati rispetto a ciò che era necessario, sia con pressioni troppo elevate. E quindi si è parlato di ventilazione gentile, capendo che la ventilazione col casco C-PAP, l'ELMET o l'alto flusso era sicuramente da preferire rispetto alla ventilazione meccanica non invasiva. E laddove era necessario invece impostare un ventilatore, era importante utilizzare delle pressioni di esercizio basse, quindi una ventilazione di tipo gentile, proprio per evitare questo stress polmonare e l'incremento della tempesta citochimica. Proprio a tal proposito, ripeto, dopo la prima ondata in cui si faceva quello che si poteva, perché trovati questi pazienti tantissimi, tutti insieme, con una patologia del tutto nuovo, in cui i meccanismi non erano ancora ben conosciuti, si è ventilato con quello che si aveva e nelle modalità che avevano. Questo è ovvio. Però man mano che si sono raccolte le idee, sono cominciati a nascere degli studi osservazionali che cercavano di capire l'outcome, quindi cosa succedeva ai pazienti che venivano ventilati nei vari setting assistenziali e con le varie modalità. Questo è uno di quegli studi che ha preso in esame quasi 5.000 pazienti. Di questi 5.000 pazienti, 46%, quindi circa la metà, avevano ricevuto una ventilazione con C-PAP o NIV e la mortalità era di circa il 41%, mentre il 26% di questi erano poi stati intubbati. Quindi si era visto che C-PAP e NIV, sì, sono efficaci per il trattamento di insufficienza respiratoria, molti pazienti rispondono e vanno meglio, però in realtà sono associati poi, erano associati a una mortalità troppo elevata e hanno cercato di capire perché, che cos'era che non andava, la metodica, il timing per il quale era stato posizionato il ventilatore o fattori intrinseci al paziente. Questo è un altro studio che appunto a seguito di queste osservazioni che sono state fatte si è posto una domanda. Eravamo certi fino a due anni fa che la NIV fosse un sistema sicuro ed efficacissimo, utilizzato in tutti i setting. Faccio un esempio, noi a Latina non abbiamo un reparto di pneumologia, però ventiliamo in tutti gli altri reparti, ventiliamo in pronto soccorso. Tutto sommato gestiamo la ventilazione non invasiva in maniera tranquilla. E' efficace davvero questa ventilazione? Ci si è dovuti porre queste domande. Infatti l'esito per esempio di questo studio ha mostrato che il successo e l'insuccesso della NIV erano praticamente equivalenti. Questo che tendeva un po' a concludere, a prendere quelli precedenti e a dare una conclusione, diceva che il 43%, una percentuale quindi molto alta, dei pazienti in terapia intensiva che erano stati intubati dopo il fallimento della NIV è decennato. Perché probabilmente, e si sono resi conto, c'erano degli altri fattori da tenere in considerazione. Ovviamente il primo fattore vale per tutti i tipi di patologie che noi vediamo in ospedale, cioè l'età del paziente. Ovvio, più il paziente è in età avanzata, più ha comorbidità, e più quello è un fattore predittivo indipendente per mortalità. Ma l'altro era la durata della ventilazione non invasiva. E questo quindi è uno di quegli studi che ha indicato l'intubazione precoce come una delle linee guida da seguire. Quindi un paio di giorni al massimo, se il paziente non va bene, va intubato in testa. E all'inizio, il primo è un stato pandemico, infatti, in molti posti dove era possibile farlo, perché teniamo in considerazione ovviamente che ogni luogo è diverso, però nei posti dove è stato possibile farlo, i pazienti venivano effettivamente intubati molto velocemente. Questo quindi per quanto riguarda la ventilazione però del paziente grave. Si sono resi conto che il problema nasceva molto. Prima abbiamo visto la classificazione della CARS, quindi della sindrome dagli stress respiratorio nel paziente COVID. Ma come abbiamo trattato questi pazienti dall'inizio? Facciamo un passo indietro, perché ovvio che il paziente che arriva con una sindrome grave, severa, io lo ventilo come posso. Ma quello che arriva in fase precoce, come va trattato? Come dicevo all'inizio, ossigeno subito tanto o no? Allora si era capito che proprio nella early CARS, quindi nella fase precoce della polmonite da COVID, l'iposemia non è collegata direttamente alle alterazioni che vediamo alla TAC. Quindi bisogna basarsi sugli indici e i parametri di cui parlavamo prima. Il paziente ha una frequenza respiratoria molto elevata, il paziente ha un'iposemia molto severa, ecco queste sono le cose che vanno tenute in considerazione. Ma è ritornato il concetto della ventilazione gentile. La maggior parte dei dati, degli studi che vi ho portato in conclusione porta a dirci che l'utilizzo di una TEP più alta è inutile o addirittura dannosa soprattutto nella fase precoce di malattia. Quindi ventilare in modo strong i pazienti nelle prime fasi può portare a un peggioramento e a un'evoluzione molto più rapida verso le fasi successive. In real life. Allora, gli studi che vi ho mostrato sono ovviamente real life, ma sono real life di centri con delle risorse di un certo tipo e con strumenti di un certo tipo. La real life che intendo io è quella che viviamo negli ospedali comuni, negli ospedali dove non si fa magari ricerca perché non ci sono le risorse, non ci sono neanche le strumentazioni alle quali. e allora mi faceva piacere appunto portarvi l'esperienza che abbiamo avuto noi nell'ospedale di Latina. Cioè come ci siamo comportati, adesso che sappiamo quello che bisognava fare già dall'inizio, come ci siamo comportati in un ospedale periferico come quello di Latina che ha un bacino di utenza spaventoso, che già normalmente prima del covid aveva dei numeri in pronto soccorso particolarmente elevato, beh, ha dovuto improvvisamente affrontare questa pandemia i suoi risorse senza nulla. Cosa abbiamo fatto? La prima cosa che abbiamo capito era quella che vi dicevo all'inizio, cioè la collaborazione. La collaborazione tra tutti gli specialisti in campo. Abbiamo avuto una grande fortuna, cioè quella di avere non un reparto di pneumologia, ma un reparto di malattie infettive universitario. E' una riannazione, essendo un deo di secondo livello. Questo ci ha permesso di riunirci subito, già nei primi giorni, e stendere delle linee guida interne sul comportamento da seguire. E questo ha visto coinvolti i pneumologi, infettivologi, medici di medicina d'urgenza e gli animatori. Ci siamo riuniti e abbiamo detto, vediamo cosa possiamo fare, portando ciascuno le proprie competenze. E quindi abbiamo elaborato i nostri algoritmi, le nostre forciate. Quindi anche noi siamo andati per step, abbiamo ragionato. Vediamo il paziente quando arriva, in che condizioni è, dopodiché lo trattiamo procedendo per gravi. E quindi quando il paziente arrivava in ospedale, in prima battuta, questa è un'altra cosa secondo me che è stata molto importante, almeno nella nostra esperienza, poi se qualcuno vorrà portare la sua, mi farà piacere confrontarmi, è stato fare l'attack a tutti i pazienti che arrivavano con sintomi da Covid in pronto soccorso. Cioè anche nelle prime fasi in cui in altri posti venivano fatte le radiografie, noi abbiamo fatto l'attack a tutti. Questo è stato possibile grazie al grande lavoro dei nostri radiologi, che sono stati molto disponibili. E abbiamo avuto anche a disposizione in ospedale una TAC Force che ci ha permesso di valutare molto meglio quelle alterazioni che vi dicevo prima del microcircolo pulmonare, grazie a delle ricostruzioni 3D. Comunque abbiamo fatto queste TAC di base a tutte. Emogas, TAC, esami amici. Se il paziente aveva una polmonite, e in questo modo siamo riusciti anche a diagnosticare delle polmonite in fase iniziale, potendoli trattare subito, iniziavano un'ossigenoterapia a bassi flussi con la maschera di Venturi. Perché la maschera di Venturi? Perché ci permetteva di calcolare quel rapporto PF-PSUF che vi dicevo prima, perché è l'unica che ci permette di capire che FIO2 sto erogando al paziente. E quindi mi permette anche di modulare la terapia in base alle esigenze. Se il PF-PSUF cominciava a scendere sotto 250, passavamo al secondo step e valutavamo anche la terapia farmacologica. Dopo un accenno lo faccio sulla terapia farmacologica e intraspedaliera. Nel secondo step, quindi pazienti con insufficienza respiratoria più grave, prendevamo in considerazione il casco CITAP, con pep da 10 a 15 cm d'acqua e con una FIO2 tra 60 e 100. per avere un target di SQ2, come vi dicevo prima, almeno intorno a 94. Se nonostante la terapia medica, nonostante questo tipo di ventilazione, il paziente non solo non migliorava, ma addirittura aveva una riduzione del rapporto, la condivisione veniva, la gestione veniva condivisa con i rianimatori e si passava poi al terzo step. Sotto 100 si considerava ovviamente l'intubazione. Dico si considerava perché, come avrete visto anche voi nei vostri ospedali, nella prima ondata pandemica a un certo punto c'è stato un blocco completo, quindi anche intubare un paziente diventava una cosa estremamente complicata. E quindi sono stati pazienti che sono stati trattati con una non invasiva, il casco nello specifico, anche per molto tempo. A tal proposito, all'inizio, nella prima ondata pandemica, non avevamo nemmeno gli altri flussi, quindi sono stati utilizzati solo caschi C-PAP, anche perché la ventilazione, i ventilatori che avevamo in ospedale erano solo del tipo domiciliare, quindi non ci permettevano di erogare una FIO2 adeguata, essendo ventilatori domiciliari, mentre questi pazienti erano prevalentemente ipossianici. Quindi abbiamo trattato tutti col casco. E questi sono i dispositivi appunto che abbiamo potuto utilizzare. L'alto flusso che vedete ci è arrivato, e ci sono arrivati solo quelli sempre domiciliari, nella seconda ondata pandemica. Quindi queste erano sempre le flusciate, le nostre inieguide interne. Quindi una PO2 superiore a 70 mm di mercurio in aria ambiente, con una CO2, una frequenza respiratoria normale, non venivano trattati con ossigeno, ma solo osservati e trattati con l'eventuale terapia farmacologica del caso. Sotto 70, o con una ipocatmia e una frequenza respiratoria sopra 26, cominciavano l'ossigeno terapia. Maschera di venturi, la maschera di venturi ci permette di avere una FIO2 fino al 50%. Poi utilizzavamo la reservoir, che sarebbe quella con il sacchetto sotto. La reservoir non permette di calcolare esattamente la FIO2, noi calcolavamo che fosse intorno al 70%, ma giusto per avere un step che facesse da ponte tra la maschera di venturi e il casco C-PAP. E questa l'ho messa perché? Un'altra cosa, non so se la ricordate, inizialmente il casco C-PAP è stato proprio tipico italiano. In tutta Europa utilizzavano la ventilazione meccanica quando noi utilizzavamo il casco. A un certo punto, quando hanno cominciato a capire che la ventilazione gentile era più adeguata rispetto all'altro tipo di ventilazione, allora sono nati i primi studi che hanno dato conforto a questa pratica dell'utilizzo del casco C-PAP. E questa era la nostra, invece, Floschar relativa proprio all'utilizzo del casco C-PAP e all'eventuale svezzamento dallo stesso. In questa fase, quindi dopo un pochino dall'inizio della prima ondata, si è cominciato a parlare, sempre grazie agli studi di Gattinoni, della pronazione. E su questo ci sono state diverse note norenti. La pronazione, quindi il posizionamento a pancia in giù del paziente, è possibile fino a un certo punto, perché un paziente magari obeso con il casco C-PAP non riesce a stare pronato in un reparto di degenza ordinaria e nel momento in cui ci siamo ritrovati con oltre 300 pazienti ricoverati in tutto l'ospedale con solo 14 posti letto di subintensiva e 16 di rianimazione, i pazienti gravi erano ovunque e quindi si faceva quel che si poteva, però la pronazione non era possibile per tutti. Questa pratica è migliorata moltissimo nella seconda ondata pandemica con l'arrivo dell'alto flusso. Come avete visto, l'alto flusso avendo delle cannone nasali è molto più confortevole e permette al paziente di rimanere pronato per moltissime ore, quindi di eseguire correttamente i cicli. E abbiamo già visto i primi miglioramenti. Uno dei casi che vi porterò riguarda proprio questo. E questo è l'algoritmo per l'utilizzo appunto delle cannone nasali. Vado veloce qui perché altrimenti vi annoio. Questo è quello che vi dicevo, cioè del fatto che la ventilazione attraverso la nasal cannula, quindi gli alti flussi, sia molto più fisiologica e confortevole per il paziente. E questo è una sintesi, diciamo, dei vantaggi dei vari tipi di dispositivi di ventilazione rispetto a dei parametri. Ovviamente il miglioramento dell'ossigenazione ce l'abbiamo con tutti e tre i sistemi, l'alto flusso, la CIPAT e la LIV. E il miglioramento del reclutamento delle aree si ottiene, delle aree non ventilate, si ottiene soltanto grazie a una PEP. L'alti flussi, soprattutto quelli domiciliari, purtroppo non riescono a erogare PEP adeguate, mentre lo fanno sicuramente CIPAT e LIV. E riducono lo stress respiratorio, questo lo fa soprattutto la LIV. E sempre parlando di indicatori, dopo il ROX Index, dopo il PSUF, abbiamo introdotto anche l'ACOR, altro indicatore già noto ai rianimatori da tempo, che prende in esame altri parametri, cioè abbiamo arricchito il nostro bagaglio culturale di altri indici da poter utilizzare, cioè indici che appartenevano ad altre specialità e che sono diventati anche nostri. Nell'indice ACOR viene contemplata la frequenza cardiaca, l'acidosi respiratoria, lo stato di coscienza, l'ossigenazione e la frequenza respiratoria. Come vedete, altri parametri fondamentali nel monitoraggio di un paziente. E questi appunto sono gli studi che ci dicono appunto quanto sia importante utilizzare tutti questi indicatori che vi ho appena illustrato. Un indice di ACOR superiore a 5, dopo 1 o 12 ore dall'inizio, la CIPAT o la LIV, ci dà l'indicazione all'intubazione, perché a quel punto, ripeto, superato il primo periodo in cui si diceva lo rubiamo subito tutti immediatamente, si è capito che dovevamo avere qualche indice un pochino più attendibile per decidere di intubare il paziente e quindi ventilarlo in maniera strong, come dicevo prima. Questi tempi non sono sempre stati rispettati per i motivi che vi dicevo prima, per cui ci sono stati pazienti ventilati con il casco CIPAT anche per diversi giorni. Mentre è mandatoria, era e lo è ancora mandatoria, l'intubazione, quando ci sono questi criteri, uno dei criteri maggiori o due o più criteri nimi. Tra i criteri maggiori, non lo devo nemmeno dire, ovviamente l'arresto respiratorio, la stabilità emodinamica, ma anche l'intolleranza verso la metodica utilizzata di ventilazione, perché non tutti i pazienti tollerano la ventilazione con il casco CIPAT, che è qualcosa di terrificante, e tantomeno con la NIVA, soprattutto quando prolungata. Apro e chiude un'altra parentesi. Ricordiamoci che il casco CIPAT nasce in realtà per il trattamento dell'edema pulmonare acuto, per cui generalmente si applica per qualche ora, nel frattempo la terapia medica fa effetto e viene rimosso. Portarlo per giorni interi è qualcosa di devastante, e l'abbiamo visto sulla pelle dei nostri pazienti, però appunto non c'era altro danno, purtroppo. Per quanto riguarda i trattamenti farmacologici, sono stati usati dalla prima ondata pandemica un po' tutti. Vi dicevo prima la fortuna di avere un reparto di malattie infettive universitario. La primaria del reparto di malattie infettive nostro, la professoressa Littner, è riuscita sin da subito a approvvigionare l'ospedale di tutti i farmaci che di volta in volta venivano indicati per il trattamento della Covid-19. E tra questi anche il Tocilizumab, l'anticorpo monoclonale e anche l'equina 6 che era stato utilizzato a Napoli, vi ricordate. Anche quello l'abbiamo avuto dall'inizio e l'abbiamo riservato a pazienti con un andamento particolarmente grave. Le fiale erano quelle che erano e si era visto che aveva un maggiore impatto dal punto di vista positivo sui pazienti in piena tempesta citochimica, quindi con un livello di gravità particolarmente elevato. E sono stati somministrati anche in più volte, non solo una volta solo. Sono stati utilizzati e vengono utilizzati ancora gli anticorpi monoclonali che adesso sono diventati una freccia al nostro atto per il trattamento domiciliare dei pazienti che non necessitano di ospedalizzazione e li abbiamo avuti anche quelli sin da subito. E poi sono stati utilizzati steroidi sistemici, antibiotici laddove necessario, l'eparina, parlavamo di alterazioni del microcircolo, di tromboembolia, ne abbiamo visti tanti di pazienti avere dei fenomeni tromboembolici, a volte anche sotto e parino. Però questa è stata utilizzata sin dall'inizio. E poi ovviamente gastroprotezione. Ma un'altra cosa importante della Covid-19, dopo che abbiamo capito come abbiamo trattato questi pazienti, sbagliando all'inizio o aggiustando il tiro, mi piace dire, durante la pandemia, un altro aspetto importante è stato, diciamo, è stato emblematico. e questa immagine secondo me lo illustra molto bene. Chi è il paziente colpito più severamente dal Covid? All'inizio parlavano di persone anziane, molto anziane con tante patologie e questo è diventato un po' un cavallo di battaglia di quelli che poi successivamente hanno deciso di non vaccinarsi. Tanto sono giovane, non ho niente, non mi succederà nulla, non mi vaccino. Proprio perché è stata portata avanti questa narrazione del tutto errada, almeno nell'esperienza. l'avete visto anche voi, è vero che venivano ricoverati pazienti fragili e anziani, ma spesso e volentieri non avevano delle polmoniti da Covid devastanti come abbiamo visto in soggetti giovani. E lì è nata la famosa diatriba, morire per il Covid o morire con il Covid. Purtroppo molti di questi pazienti anziani effettivamente sono deceduti per complicanze legate al loro stato precedente. Il Covid, l'infezione, ha accelerato questo processo e ovviamente sono stati più vulnerati. però purtroppo anche nella prima ondata abbiamo visto persone giovani, sane, sportivi, non avevano mai fumato, persone che non facevano terapie particolari, ammalarsi gravemente e morire. Perciò vi dicevo, questa immagine secondo me è emblematica. Il paziente Covid è senza volto, è chiunque e non abbiamo modo di sapere chi colpirà e in che modo. questo è un po' per alleggerire l'attenzione. Quando è arrivato il vaccino, ho messo una foto di me molto felice quando finalmente è arrivata la prima dose di vaccino e il vaccino ci ha già permesso di discriminare, di capire un attimo l'identikit del paziente che si ammala. E questo, questa, diciamo, schema preso dalla regione, della regione Veneto ha fatto una distinzione tra pazienti vaccinati e non vaccinati in due fasce d'età, sotto i 60 anni e sopra i 60 anni e qui secondo me vengono fuori dei dati estremamente interessanti perché sotto i 60 anni quindi in teoria parliamo di soggetti meno a rischio secondo la narrazione iniziale, quelli che vengono ricoverati in ospedale per una polmonite da Covid sono più della metà pazienti senza alcun tipo di patologia mentre i vaccinati che vengono ricoverati in ospedale con Covid sono quelli che hanno due o tre comorbidità questo secondo me è un dato estremamente interessante perché intanto ci fa capire l'efficacia del vaccino sulla protezione generale della popolazione più forse nei soggetti non fragili che in quelli fragili e poi appunto ci permette di fare un identikit sopra gli 80 anni questa differenza sostanzialmente si appiattisce per i motivi che vi dicevo prima chi viene ricoverato in ospedale e ha 80 anni che venga ricoverato per il Covid o venga ricoverato per l'infezione urinaria è comunque un soggetto ovviamente più a rischio di mortalità e sempre cercando di fotografare il paziente tipo che viene ricoverato in ospedale e che ha un rischio di mortalità più elevata questo è interessante la fonte è l'Istituto Superiore di Sanità come vedete le patologie più frequentemente presenti nei pazienti ricoverati con Covid sono le cardiopatie e questo schema sempre dell'Istituto Superiore di Sanità è ancora più interessante perché all'inizio della pandemia tra pneumologi eravamo terrorizzati di trovare in ospedale tutti i nostri pazienti respiratori in condizioni gravi e invece sorprendentemente i pazienti con malattie respiratorie croniche che arrivavano in ospedale morivano sono la terza parte rispetto a quegli affetti da patologie cardiovascolari e addirittura la metà dei diabetici questo dato è stato così interessante che è stato oggetto ovviamente di studi numerosi studi sono stati fatti per capire quale fosse il legame perché effettivamente la prevalenza dei pazienti con patologie respiratorie croniche in ospedale per Covid era bassissima ma la loro mortalità era alta e soprattutto questo tra pazienti che facevano triplice terapia inalatoria piccola regressione per chi non ha non è abbezzo a trattare patologie respiratorie croniche la triplice terapia cioè doppio bronco dilatatore più corticosteroide inalatorio si dà al paziente BPCO con lo stadio più grave di patologia queste sono le indicazioni nelle nostre inedita ecco questo tipo di paziente era quello che aveva una mortalità maggiore allora in un primo momento c'è stato sconcerto sarà lo steroide inalatorio che peggiora la replicazione virale e quindi aumenta la mortalità in realtà andando a vedere meglio i dati e quindi facendo un'analisi di sensibilità un pochino più attenta si è osservato un dato che conosciamo da sempre cioè il paziente che ha una BPCO di grado più severo e quindi necessita di fare una triplice terapia è un paziente con comorbidità e generalmente le comorbidità sono soprattutto cardiovascolari quindi è vero che questi pazienti avevano una mortalità più elevata ma erano i pazienti che ce l'avevano per altre condizioni preesistenti e per la gravità preesistente della propria patologia rispetto alla gravità questo non solo ha assolto il ruolo degli steroidi inalatori contenuti negli inalatori che vengono dati a questi pazienti ma ha permesso di capire un pochino di più il meccanismo perché sappiamo perché utilizziamo gli steroidi inalatori nei pazienti di BPC o asmatici per ridurre l'infiammazione e l'edema che fanno parte anche della polmonite da SARS-CoV-2 quindi in realtà l'effetto paradossalmente è protettivo e infatti alcuni tipi di cortecosteroidi hanno mostrato di sopprimere in vitro la replicazione di SARS-CoV-2 quindi addirittura proteggendo il paziente stessa cosa vale per gli asmatici tra gli asmatici non è stato riscontrato un aumento di rischio di morte rispetto ai BPC o severe però gli asmatici hanno un altro svantaggio generalmente chi li tratta sa che sono molto più suscettibili alle infezioni virali quindi anche in questo caso ci si sarebbe aspettato un incremento del numero dei pazienti con asma ricoverati in ospirare per Covid questo non è avvenuto ancora una volta a dimostrazione che la terapia inaratoria fatta da questi pazienti in realtà ha un effetto protettivo e la conclusione di questi studi è stata proprio che i pazienti cronici e respiratori dovessero continuare con fiducia la propria terapia e questo appunto è stato il decorso ospedaliero dall'inizio il paziente ricoverato come l'abbiamo trattato ma poi si fa adesso un gran parlare di post-Covid sono ormai fioriti ovunque ambulatori del post-Covid del follow-up cosa assolutamente necessaria perché una volta guariti dal Covid quindi dalla polmonite in realtà inizia tutto un altro percorso che vede tutta un'altra serie di indicazioni e di cose da fare e proprio perché i pazienti guariti dal Covid presentavano dei sintomi persistenti a volte anche dopo un mese dopo essere guariti dalla patologia sono state diverse società scientifiche soprattutto anglosassoni si sono riunite e hanno cercato di classificare questa problematica del post-Covid stilando una sorta di linea vita e hanno intanto definito tre tipi di post-Covid tra virgolette allora intanto abbiamo la Covid-19 acuta sintomi di durata uguale o inferiore a quattro settimane un mese quello è il Covid avuto sintomi che persistono tra quattro e dodici settimane sintomatica persistente la sindrome post-Covid è quando i sintomi durano più di dodici settimane e quei sintomi di feriti non possono essere legati a nessun altro tipo di patologia quindi non altrimenti spiegabili nella maggior parte dei pazienti nostra grande maggioranza comunque i sintomi si risolvono in genere in dodici settimane quando ciò non avviene si parla di long Covid e questo va trattato studiato e seguito nei sintomi post-Covid vedremo adesso ve li elenco ma sono veramente tantissimi perché il SARS-CoV-2 può colpire qualsiasi tipo di organo ed apparato perché si ha fatto molto rumore la polmonite da SARS-CoV-2 abbiamo avuto anche delle encefaliti da Covid abbiamo avuto pazienti con sintomi gastrointestinali sintomi cardiaci parlavamo prima di miocardite pericardite da Covid quindi diciamo che i sintomi sono davvero vari colpiscono tutti gli organi apparati però un'altra cosa che ha colpito noi pneumologi è stato trovare un gran numero di sindrome ostruttive post-Covid in pazienti senza fattori di rischio resistenti per intenderci non erano fumatori ne avevano avuto esposizioni professionali particolari senza patologie respiratorie pregresse che presentavano una sindrome ostruttiva alla spirometria oppure talvolta un'obiettività toracica ostruttiva dopo il Covid in questo caso sono stati trattati come pazienti respiratori cronici quindi sono stati dati loro gli inalatori quindi corticosteroide gli inalatori insieme ai broncodilatatori ed è stato consigliato una ripresa graduale dell'attività motoria anche questa mi piaceva perché sempre per amore della semplicità secondo me questa schematizza bene l'entità del problema di cui stiamo parlando dopo quattro mesi più della metà dei pazienti ha sintomi come palpitazioni e affondo dopo più di quattro mesi il 30% ha un disturbo da stress post-traumatico e il 10% soffre d'ansia già solo questo dato ci fa capire quanto sia importante adesso e in futuro quando questa pandemia sarà alle spalle occuparci appunto del post-covid questi sono gli altri sintomi come vedete vanno dal senso di oppressione toracica le palpitazioni a sintomi neurologici quelli neurologici sono sicuramente i più invalidanti pazienti che riferiscono perdita di concentrazione perdita di memoria senso di rubinamento poi anche sintomi dermatologici molte donne nella mia esperienza hanno riferito un telogene fluidium cioè una perdita consistente dei capelli dopo il covid come vedete davvero sintomi estremamente vari essendo vari ed essendo il loro andamento potenzialmente intermittente sono sintomi che vanno ricercati ogni volta che si fa una visita di follow-up in questi pazienti e vanno attentamente studiati nella nostra esperienza di ambulatorio post covid l'abbiamo iniziato già a maggio del duemilaventi quindi sulla coda della prima ondata pandemica è stato sempre un lavoro di collaborazione io insisto molto su questo punto perché vengo dalla scuola del Forlanini dove ricordo la collaborazione tra reparti specialità si parlava del caso si le discuteva e ognuno metteva le proprie competenze ed è una cosa che secondo me negli anni si è persa e che la pandemia ci ha fatto ritrovare nell'ambulatorio post covid abbiamo collaborato con i cardiologi che fanno appunto l'ecocardiogramma ai pazienti che hanno avuto una forma grave o che presentano ancora palpitazioni o che hanno avuto una trombomolia pulmonare durante il ricovero abbiamo collaborato con gli otorini per la gestione dell'anosmia e agiosia con i neurologi per questo problema del deficit cognitivo con i radiologi è importante farlo quindi un ambulatorio post covid dovrebbe tenere in considerazione tutto l'aspetto e quindi non essere solo di pertinenza pneumologica o infettivologica questo almeno è il messaggio che ho recepito comparato tutto comunque è un work in progress e serve perché vi ho fatto vedere all'inizio questa immagine mi piaceva molto perché all'inizio vi ho fatto vedere il trionfo della morte che era legato all'epidemia di peste raccontata anche da Manzoni questo invece è il trionfo della vita penso che stiamo andando verso quella direzione spero il più velocemente possibile poi io non so ai moderatori io ho tre casi clinici se volete vi faccio perfetto a me va bene perché sono anche sequenziali mi fanno capire fanno capire meglio quello che ho detto perfetto perfetto ci sono allora i tre casi clinici che vi illustro sono proprio nell'ordine sono tre pazienti il primo visto nella prima ondata pandemica il secondo visto tra la seconda e terza ondata pandemica e il terzo visto adesso e sono secondo me paradigmatici ci fanno capire esattamente che cosa è cambiato dall'inizio ad oggi allora il primo caso è arrivato proprio a marzo del 2020 alla fine uomo 57 anni in buona salute assumeva soltanto un ace inibitore per un'ipertensione arteriosa di grado 10 aveva come storia tre anni prima una diagnosi di osas moderata però non in terapia comunque un signore attivo un lavoratore senza nessun tipo di problema contrae il covid e prima di arrivare in ospedale passano 10 giorni dall'inizio dei sintomi all'inizio vi ricordate le persone avevano paura uscire di casa gli si diceva di stare a casa di aspettare è arrivato dopo 10 giorni i sintomi erano stati febbre anche elevata con acne a 39 dispnea tosse stizzosa quando si rende conto di non star bene arriva in ospedale e al suo ingresso il PSUF è già sotto 200 quindi parliamo già di un quadro sedere e questa è l'attacca allora in queste immagini si vede una cosa importante erano passati 10 giorni il vetro smeriglio è pochissimo scusate questo è un puntatore ecco qua il vetro smeriglio è pochissimo in realtà quello che si vede sono aree di consolidazione sparse quindi già era una fase avanzata della malattia quelle aree sono aree che non sono né perfuse né ventilate quindi il paziente aveva effettivamente una grave insufficienza respiratoria viene immediatamente recuperato all'epoca l'unico reparto che poteva accogliergli era quello di manochie infettive viene subito intrapreso un trattamento con alte dosi di steroidi e pari da basso peso molecolare la zitromicina all'epoca si utilizzava il caletra l'associazione di due antivirali e i plakenil che poi sono sono stati abbandonati e viene posizionato subito il casco cipatta ricordiamoci che il PSUF era sotto 200 con una peppa di 7,5 dopo pochissimi giorni meno di 72 ore il paziente peggiora in maniera drammatica il PSUF scende sotto 100 per cui viene trasferito in rianimazione e viene intubato e successivamente tracostomizzato per essere ventilato in maniera invasiva purtroppo era arrivato già in una fase troppo avanzata di malattia questa è un'attacca fatta al tempo 1 quindi abbiamo il tempo 0 dell'arrivo in ospedale e questo quando era già tracostomizzato in rianimazione era già iniziato la terapia come vedete compaiono delle aree escavate bilaterali e le sue condizioni si aggravano gli indici di flogosi altissimi viene sottoposto a una broncoscopia questa è l'attacca e con la broncoscopia viene diagnosticata una spergillosi pulmonare inoltre risulta positivo alla chiamsiella premonia e KPC riesce comunque nonostante tutte queste complicanze a superarlo nella prima ondata nei pazienti che sono stati ricoverati in rianimazione da noi ne sono sopravvissuti tre lui è uno di quelli nonostante questo quadro è riuscito a sopravvivere però si è ritrovato questo bagaglio della spergillosi pulmonare che comunque è una situazione particolarmente grande è stato trattato con Cresemba quindi il farmaco specifico su guida dei nostri infettivologi per sei mesi poiché la situazione non si è risolta è stato sottoposto al San Camillo a un intervento di lobectomia superiore destra proprio per la rivoluzione della spergillina dopo l'intervento è stato inviato presso una struttura riabilitativa qui apro e chiudo parentesi la riabilitazione è importantissima fior di studi a livello internazionale dicono che i pazienti che hanno avuto il covid soprattutto in forma grave dovrebbero essere sottoposti a ciclo di riabilitazione respiratoria poi ci scontriamo sul fatto o il fatto che sul territorio non esiste quindi noi per esempio riusciamo i posti che ci sono sono pochissimi sono veramente pochi centri e questa è una cosa drammatica perché molti pazienti avrebbero avuto meno sintomi se avessero potuto fare questo tipo di trattamento chiudo parentesi comunque dopo 12 mesi quindi il paziente è stato recuperato di animazione poi malattie infettive poi è stato sottoposto all'intervento di lobectomia va in riabilitazione dopo 12 mesi lo vediamo nell'ambulatorio di follow up persiste astenia intensa e dispnea per sforzi moderati con un punteggio di 4 secondo borg senza però desaturazione viene riscontrata una sindrome di riperioreattività bronchiale post nasal drip il paziente riferisce cefalea e rinorrea e viene iniziata terapia con corticosteroide inelatorie e broncomilatorie viene rifatta una TAC torace di controllo che documenta gli esiti non ce l'ha post-ATAC e dà bronchiettasie cistite e di basali oltre a delle sprie di sventilatorie viene rifatta la colosomografia per il rinquadramento della problematica già nota e viene fatta anche una spirometria un ecocardiogramma dicevamo prima che non mostra nulla di rilevante e una spirometria e questa è la spirometria che è i limiti della norma anche la DLC però ricordiamoci che il paziente faceva il CS lab che tra l'altro riferisce di non riuscire a sospendere per la ricompassa immediata dei sintomi della distria questo era il primo caso il secondo caso invece è arrivato tra la seconda e la terza ondata ed è un altro caso secondo me interessantissimo uomo 47 anni sanissimo mai fumato nessun problema lungilinio vitattiva a gennaio un collega tra l'altro a gennaio 2021 in attesa di fare il suo primo vaccino si infetta con le conoscenze che abbiamo non aspetta a casa tanti giorni dopo tre giorni dall'inizio della sintomatologia e soprattutto per la comparsa della dispnea arriva in ospedale all'ingresso in DEA quest'uomo ripeto 47 anni sano ha già una più due di 68 millimetri di mercurio la PCO2 è a limiti e ha una frequenza cardiaca di 125 inizia subito una menti masca al 35% e questa è la sua tacca ora se vi ricordate la tacca che vi ho appena fatto vedere di quell'altro paziente all'ingresso vi renderete conto della differenza dopo tre giorni lui ha solo aria a vetro smerigliato e quindi è tutta infiammazione giovane sostanzialmente non ci sono aree appensate in questo caso e cambia anche il nostro referto perché nel nostro evolverci continuamente con i radiologi abbiamo studiato un modo standardizzato di refertare le tacca per dare ai clinici l'indicazione della gravità ecco la gravità di questo paziente era di 14 su 25 come punteggio di coinvolgimento del polimono viene iniziato da terapia stavolta con Rendesigir perché ce l'abbiamo l'abbiamo avuta nella seconda indata la terapia più specifica e il tocilizumab viene somministrato due volte perché viene ricoverato per 20 giorni e inizialmente non assistiamo a un grande miglioramento e viene sottoposto ad alto flusso finalmente avevamo anche gli altri flussi lui è stato molto collaborante per cui per oltre 10 giorni ha effettuato cicli di pronazione in alto flusso costante e questo gli ha permesso lentamente di venirne fuori quindi dopo 20 giorni di ricovero ospedaliero è stato mandato a casa dopo 3 mesi quindi abbiamo stretto il follo alto è stato chiamato per la prima visita in ambulatorio quindi dopo 3 mesi da quell'infezione 20 giorni di ricovero riferisce ancora di spneato per sforzi moderati ha ancora tachicardia e una profonda asteria al test del cammino la desaturazione non è significativa perché perde 3 punti percentuali da 96 a 93 però comunque desatura viene fatta un'ecografia toracica prima qualcuno l'ha nominata nell'ambulatorio di follow up facciamo anche l'ecografia toracica effettivamente che ci è utile per monitorare il paziente e poi in considerazione delle sue condizioni viene programmata anche una tacca di controllo questa è la spirometria a 3 mesi dall'infezione da covid come vedete parlavamo prima di morfologia della curva non è in grado ancora di eseguire in maniera assolutamente corretta una spirometria però i valori sono i limiti quello che è fortemente ridotto è il valore della dlc e questa è la tacca di controllo come vedete le aree a vetro smerigliato sono molto sfumate sono in via di guarigione è a 3 mesi questa però ci sono delle strie fibrotico-misventilative bibasali posteriori e sono l'evoluzione naturale verso la guarigione del covid viene fatto un secondo follow up a 10 mesi che ripeto vanno ottenuti sotto controllo nel tempo e alla tacca di controllo viene notato un ulteriore miglioramento delle aree a vetro smerigliato viene risottoposto a spirometria e mentre come vedete la curva è nettamente migliorata lui si sente meglio ha ripreso l'attività fisica la dlco permane ancora ridotta sempre espressione di quelle aree fibrotiche che si vedono alla tacca ah ecco questa ce l'ho infatti vedete ci sono ancora dopo 10 mesi le aree fibrotiche e l'ultimo l'ultimo caso questo è più breve è un caso invece interessante perché è capitato da poco ed è stato trattato al domicilio donna di 54 anni con un BMI sopra 31 quindi considerata obesa con un'anamnesi tutto sommato scala ma niente di particolare vaccinata con due dosi ma da più di 120 giorni era in attesa entro pochi giorni di fare la terza dose che non ha fatto un tempo a fare dopo 5 giorni da un contatto con un positivo e in sorta il rinorrea febbre profonda astemia e malestre dopo 72 ore poiché non sentiva alcun miglioramento della sua sintomatologia ma ha cominciato a sentirsi ancora più astenica e visplorica anche senza desaturazione è stata indirizzata a valutazione e gli è stato somministrato il molnupiravir che è il nuovo antivirale domiciliare guardiamoci il rendesivir si fa all'inospirale mentre questo tipo è un antivirale può essere fatto a casa la paziente rientrava nei criteri in questo trattamento proprio in virtù del suo BMI elevato perché come per i monoclonali anche per questo tipo di antivirali ci sono dei criteri di inclusione quindi è stata rinviata a casa al domicilio dove è stata monitorata a distanza per saturazione frequenza cardiaca e pressione arteriosa dopo 3 giorni dall'inizio della terapia è in sorta a cefalea e malessere grazie al monitoraggio domiciliare è stata riscontrata un picco ipertensivo la paziente è stata trattata con mezza compressina di LASIX da 25 e bis in vie con remissione della problematica e dopo 5 giorni termine della terapia con l'antivirale e remissione completa della sintomatologia attualmente la paziente sta bene e residua una leggerissima astellina dopo 14 giorni si è completamente negativizzata questo secondo me era importante farlo vedere al termine della relazione proprio per mostrare nella vita reale come tutto ciò che è stato scoperto in questi due anni di pandemia si è poi riflesso proprio nei pazienti che abbiamo trattato ora al di là delle variabilità individuali c'era una differenza di comportamento all'inizio della pandemia da parte dei pazienti e da parte degli operatori sanitaria rispetto a quello che si fa adesso e questo ci fa ben sperare che ne usciremo bene grazie per l'attenzione grazie 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 Grazie. E poi si è concluso con una sperginoma. Secondo la vostra esperienza, il trattamento pesante con corticosteroide sistemici è stato rivisto? Va rivisto oppure va continuare a utilizzare delle cose? Allora no, no, in realtà no, è stato sicuramente rivisto. E diciamo che il criterio per cui all'inizio è stato utilizzato il corticosteroide in maniera così importante era perché si parlava appunto di tempesta citotinica. Allora pensando di avere a che fare con una malattia prevalentemente di tipo infiammatorio si è pensato di utilizzare il farmaco antinfiammatorio per eccellenza. E nei casi gravi i dosaggi erano effettivamente molto più alti. Adesso questa cosa non avviene più e anche si è visto negli studi successivi, io per brevità purtroppo non ho potuto mettere tutto, però anche l'utilizzo dei corticosteroidi che all'inizio verso la seconda ondata veniva utilizzato quasi subito. Quindi i pazienti a casa scoprivano di essere positivi al covid e facevano subito il cortisone. Adesso si è capito che è una cosa che va un attimo rivista, procrastinata, selezionata. Per esempio l'ultimo caso, quest'ultima paziente non l'ha fatto proprio il cortisone, non l'ha visto. Non l'ha avuto necessità e non l'è stato neanche dato indicazione. Quindi sì, quello che dici tu è vero purtroppo e lo vediamo spesso nei pazienti ricoverati in rianimazione. Terapie antibiotiche prolungate, l'intubazione, i corticosteroidi predispongono tutti allo sviluppo di queste infezioni opportunistiche. Lui tra l'altro è risultato poi positivo anche alla clansiella KPC a un certo punto, oltre tutto. Una seconda domanda, se posso, la città è persistente, è evidente in tantissimi pazienti post-COVID anche nei calienti che abbiamo noi. E anche con valore di pressione normali. Questo che significa cosa dovrebbe avere secondo voi? Allora, secondo noi, quello che si è visto è che sicuramente c'è un coinvolgimento in multi-organo. E anche il sistema nervoso centrale è interessato dall'infezione da COVID. Ora, se siano degli esiti legati alla forte tempesta citochimica che persiste dopo diverso tempo, questo non lo so. Certo c'è da dire una cosa. Nell'ambulatorio di follow-up, quando facciamo gli esami ematochimici ai pazienti, abbiamo riscontrato anche per molti mesi dopo, per esempio, elevati livelli di ferritina. Continuano ad avere la ferritina alta questi pazienti, l'LDH, la ferritina. Come se lo stato infiammatorio si prolungasse nel tempo. E quindi potrebbe, in un certo senso, essere responsabile di molta della sintomatologia. Sulla cefalea noi abbiamo chiesto anche supporto, in realtà, dei nostri neurologi. Perché i pazienti un pochino più seri che presentano questi sintomi persistenti li abbiamo inviati anche da loro. Però ecco, ti ripeto, credo che lo stato infiammatorio persistente possa essere responsabile di molti di questi sintomi che persistono nel tempo. Grazie. E' un ragazzo, per esempio, è quello che dice ragazzi, il direttore del Denti, è anche quello che dice il paz, che è un distanziario di una volta, ha detto che sono sempre per il posto della tachitina, che si deve sempre utilizzare il paz, in particolare di un tipo di pazienti. e e io stanno chiedendo i bambini e facciamo un giocatore così via però una domanda sulla veloce e una ricosta veloce che ci ha scoperto d'accordo? Oh grazie io volevo sapere se nel secondo caso se mi vuoi quando avete dato un po' l'altro nel secondo nel frattempo avreste trattato una visita valorica o qualche cosa eppure avreste lasciato un giocatore così e solo l'abbiamo osservato allora l'abbiamo solo osservato in realtà perché poiché tutti i parametri che avevamo misurato erano buoni non c'era motivo di dargli di dargli un tipo di terapia anche perché il primo follow up è stato fatto molto precocemente già solo a tre mesi e non ha fatto cortisone perché il cortisone l'ha fatto durante il ricovero e era stata data indicazione a proseguirlo una volta rimesso per un altro paio di settimane all'incirca quindi diciamo l'ha fatto poi cortisone a scalare l'abbiamo lasciato perché ci siamo resi conto che in realtà molte forme dicono poi si autorisolvono quindi la terapia viene data per i sintomi che ha il paziente quel momento non avendo il grossa sintomatologia non è stato fatto nulla sono osservato sì scusa solo una cosa abbiamo monitorato anche perché alcuni farmaci come il tocilitumab, l'antinterlutina 6 potevano essere dati soltanto se se c'erano alcuni parametri ematochimici osservati altrimenti non poteva essere proprio somministrato come criterio quindi sì l'abbiamo fatto eh sì questo l'ho detto l'ho detto prima all'inizio e nel senso che era stata preferita proprio una ventilazione gentile proprio per questo motivo non sono entrata troppo nel dettaglio di alcuni studi perché sembrava veramente in delle cose particolari però ad esempio l'equip di Gattinoni ha monitorato la pressione esofagea durante la ventilazione veniva fatta l'ecografia toracica un corso di ventilazione per controllare l'espulsione diaframmatica cioè sono stati visti diversi parametri per stabilire che pressioni di esercizio troppo elevate avevano poi sicuramente un danno più che un vantaggio eh io ti complimento un attimo ma non ho detto che sono segnalati il fatto che te ne ha detto che la mia relazione ha messo in tratta dell'otto però che hai detto ma che sei un parroppo e spero che la risulta di voi parte quando intendi legislazione gentile e oltre alla ventilazione positiva invasiva differisce prevalentemente alla non invasiva sì perché noi abbiamo dimostrato con un viso con ventilazione diciamo con casco e comunque si sviluppavano nel ciclo cioè c'è la nuova del ciclo chimica anche iniziazione con casco e addirittura in un caso che è anche un freno con casco questa è la prima la seconda è molto interessante la situazione della realizzazione della risposta che si avrebbe la covid in più un parametro che non quella della RPS forse se solo il fatto dedica al fatto della classificazione ha un incremento alla piccola modifica della trasformazione della RPS che prevede una vero di euro che fa la parte del buon so precoce che prevede il F che è inferiore al 150 ma superiore al 300 tra tanto grazie 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 per la precisazione ovviamente il professor Mollica lavora nello STIRS quindi lo STIRS era per noi nel Forlanini il luogo dove si faceva la ventilazione e basta quindi ho solo da imparare e ringrazio per questa precisazione e per ventilazione gentile però negli studi che ho citato si parlava di ventilazione non invasiva e veniva chiamata gentile per l'utilizzo di pressioni basse in realtà quindi di pressioni d'esercizio molto blande quindi con una pecca per esempio un casco cipatto che non superasse 10-12 centimetri d'acqua e ovviamente l'alto flusso che per definizione non ha una pecca elevata ma è una pecca veramente quindi in quegli studi ventilazione gentile era considerata quella poi che ci sia comunque una tempesta citotinica sicuramente però in qualche modo il paziente deve essere randato e allora si cercava di limitare il più possibile appunto questo danno polmonare da tempesta citotinica da ventilazione quindi un danno riattagliatrogeno si è cercato di dare un colpo a cerchio e una la punta però il compromesso si è trovato proprio nell'utilizzo di queste pressioni più basse grazie bene grazie a Maria Gioconda con la quale si conclude questa sessione mi scuso con chi siccome abbiamo parecchie persone online che chiedono che sono entrate ci abbiamo anche qualche domanda da casa mi scuso con loro però al momento non abbiamo possibilità di farlo per questioni di tempi ma vediamo se alla fine della giornata si riesce perché con questa relazione si chiude la prima sessione proseguiremo direttamente con la seconda sessione che sarà moderata da Minardi Mollica e Scavaldi che li invito a venire al palco e chiudendo questa sessione mi è stato chiesto poi dal dottor Peliti che è un medico di medicina generale che avrebbe dovuto partecipare oggi e non può partecipare per questioni legate alla pandemia e mi è stato chiesto di dire qualche parola per quanto riguarda il problema dei medici di medicina generale e io lo dico volentieri perché la questione è che in questi anni noi ci abbiamo sempre tenuto io personalmente ci credo molto al rapporto con il medico che io chiamo ancora di famiglia il medico di medicina generale che è il pilastro di questo sistema attualmente quindi tutti gli anni noi abbiamo sempre messo come comoderatori e comoderatori medici di famiglia quest'anno non è stato possibile per il motivo che sono veramente obberati e stressati nella loro professione quotidiana da tutti i problemi legati ovviamente alla pandemia più tutta una serie di orpelli burocratici che loro chiedono di eliminare bisogna fare molto attenzione a questo io condivido queste preoccupazioni perché la caduta che ci può essere del sistema di assistenza di base è una caduta che addirittura sarebbe peggiore di quella che sarebbe una caduta della capacità di assistenza del sistema ospedaliero questo ritengo io personalmente quindi mi associo a questa diciamo sottolineatura richiesta da pediti ringrazio tutti per l'attenzione e come dicevo adesso lascio la parola ai interatori Minardi Molli Cascavalli grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Luca, sì, mi sentiamo. Perfetto. Allora, grazie a tutti e perdonatemi ancora se non sono potuto venire di persona, ma come sa Giovanni, vi ho comunicato via telefono la scarsità di forza lavoro in questo periodo qui in ospedale, purtroppo per le cause note. Io vi ringrazio nuovamente dell'invito a parlare di sindrome cardiorenale. Ora, se proverò a condividere lo schermo, ditemi se va bene. Vediamo un attimo. Si vedono le diapositive? A posto? L'audio è ok? Ok? Perfetto. Allora, no, perché sento un po' di ritorno vostro, quindi non so se anche io mi sento bene. Allora, come dicevo, vi ringrazio per avermi concesso la possibilità di parlare di un argomento che a me sta estremamente a cuore, quale è quello appunto della sindrome cardiorenale. Io sono un nefrologo, però si è sempre occupato un po' di problematiche cardiovascolari nei pazienti nefropatici. Quando inizio questa relazione, in genere dico sempre che mai, come nel caso della sindrome cardiorenale, un'occhiata a quello che c'è stato in passato, a quello che ci hanno insegnato i nostri maestri, è doverosa. E' doverosa per diversi motivi. Noi ricordiamoci, sappiamo tutti che, soprattutto i colleghi cardiologi, come il primo a parlare di una qualsiasi interazione tra cuore e rene fu il famosissimo Richard Wright, vissuto tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, e lui nei suoi scritti postulava un qualcosa che ci fosse a livello fisiopatologico un nesso appunto tra un deficit della funzione cardiaca e un concomitante deficit della funzione renale. Ma soprattutto il Richard Wright teneva a sottolineare come, e fu il primo, già a parlarne ormai due secoli fa, di una bionivocità di questo rapporto appunto tra cuore e rene. Poi è successo qualcosa di nuovo, ovviamente la storia è andata avanti, abbiamo avuto a metà del Novecento Rich e Guyton, che tutti conosciamo anche per aver studiato sui libri di fisiologia, e più avanti due illustri nefrologi, che non so se tutti conoscete, qui in alto a destra è il professor Mario Timio, che lavorava, era primario di nefrologia all'ospedale di Foligno, che fu il primo a organizzare nel lontano 1987 il primo congresso di cardionefrologia, e il professor Ronco di Vicenza, che invece ha proseguito un po' la sua storia, che poi noi abbiamo, diciamo, umilmente ereditato negli ultimi anni con la nostra associazione di cardionefrologia. Ma veniamo invece alle cose cliniche. Ricordiamoci un po' tutti l'ipotesi di Guyton. Guyton formulò quest'ipotesi nel lontano, ormai per noi, in 1955. Lui metteva in rapporto lo scompenso cardiaco e l'insufficienza renale, e soprattutto imputava questo processo a un problema di natura emodinamica. Lui già aveva pensato come un'espansione di volume, quindi una ritenzione di liquidi, portasse per tutta una serie di motivi, soprattutto per un incremento delle resistenze, della pressione sanguigna, con una riduzione dell'apporto a livello renale, a un danno renale da un lato, e all'altro un danno cardiovascolare. E inoltre, lui fu il primo a parlare di alcuni connettori, come li chiamava lui, cardiorenali, che poi noi abbiamo scoperto avere un ruolo dominante, come appunto il sistema di inangiotensina, il sistema nervoso simpatico, oppure il ruolo dell'infiammazione, dello squilibrio del sistema dell'ossido nitrico. Questa ipotesi è stata rivista qualche anno dopo, precisamente 50 anni dopo, quando questi colleghi rivisitarono un po' l'ipotesi di Guyton e pubblicarono un lavoro su European Art Journal, appunto nel 2005, in cui puntualizzavano un po' meglio il ruolo di questi connettori cardiorenali, in particolar modo incentrandosi sul ruolo esercitato dall'infiammazione e da quello giocato dall'attivazione del sistema nervoso simpatico. Perché questo diventava, secondo questi autori, una sorta di circolo vizioso che alla fine determinava una alterata regolazione del sistema di inangiotensina che portava appunto a una vasocostrizione periferica che ovviamente andava a colpire gli organi meno nobili e uno degli organi meno nobili, purtroppo, è proprio il nostro rene. Se andiamo a considerare i pazienti che sono ricoverati per uno scompenso cardiaco, notiamo infatti in maniera molto evidente, anche se il lavoro comincia a essere un po' datato, come il peggioramento della funzione renale impatti in maniera importante sia sull'ospedalizzazione sia soprattutto sulla mortalità dei pazienti affetti da scompenso cardiaco. Inoltre, lo stesso peggioramento della funzione renale in questi pazienti ricoverati per scompenso cardiaco possiamo vedere colonna rossa come si associ a un incremento percentuale della mortalità rispetto ai pazienti con l'onina B che non hanno un peggioramento della funzione renale. Noi abbiamo provato un po' a rifare il punto con questa pubblicazione uscita nel 2018 in cui mettiamo insieme un po' l'ipotesi originale di Guyton, cioè quello del controllo emodinamico, un po' le conoscenze attuali in merito a squilibrio del sistema dell'ossido nitrico, del sistema nervoso simpatico, al ruolo dell'infiammazione, e quindi chiudevamo il quadro tra scompenso cardiaco da un lato e insufficienza renale dall'altra. Ma soprattutto dicevamo che le alterazioni che portano alla fine a una sindrome cardiorenale si hanno indipendentemente dal fatto che ci troviamo in presenza di una insufficienza cardiaca ad alta agittata o un'insufficienza cardiaca a bassa agittata, o potremmo dire anche un'insufficienza cardiaca a frazione diiezione preservata o un'insufficienza cardiaca a frazione diiezione ridotta. Ma come possiamo vedere in entrambi i casi, quello che viene fuori è come per l'attivazione dei famosi meccanismi neuroormonali, cioè il sistema nervoso simpatico, il sistema di inangiotensina, e rilascio di peptidi natriatici attivi, il concetto purtroppo è che a livello renale si determina una vasocostrizione con una ridotta perfusione a livello dei glomeruli, a una riduzione quindi del filtrato glomerulare, il GFR, e allo stesso tempo un incremento del distal derivation, dell'arrivo a livello dei segmenti distali del tubulo renale di sodio e acqua, che ovviamente determinano un incremento della volemia e un'incapacità per una riduzione di pressione sistemica a eliminare il sovraccarico di volume. Questo non solo è dovuto a meccanismi emodinamici e neuroormonali, ma è dovuto spesso e volentieri anche all'intervento del sistema immunitario, perché in questi pazienti in cui c'è uno scompenso di tipo cardio-renale, e quando parliamo in questo tipo parliamo anche di cross-talk cardio-renale, c'è un intervento delle cellule del sistema immunitario soprattutto con un incremento delle cellule T, in particolare dei globuli bianchi, in particolar modo, di monocidi e macro-fagi, che ovviamente hanno una forte attrazione, soprattutto nel momento in cui si determini un elevato campo infiammatorio. e quando è venuto il momento di dare un nome a questa sindrome cardio-renale o alle sindrome cardio-renali, naturalmente si è proceduta la più classica delle classificazioni. Questa è quella che è stata pubblicata sull'ultima edizione della nostra Bibbia di nefrologia, di critical care nefrology, e diciamo che sostanzialmente noi possiamo dividere le sindrome cardio-renali in cinque sottotipi, in cui la differenza fondamentale, come possiamo vedere, la fa il tipo di insorgenza e il tipo di primo organo coinvolto. Per esempio, i primi due sono entrambi delle sindrome cardio-renali vere e proprie, in cui l'insulto iniziale parte acutamente o cronicamente a livello cardiaco. è per esempio il caso di una sindrome coronarica acuta o nel secondo caso di uno scompenso cardiaco cronico. La 3 e la 4 possono essere anche definite delle sindrome reno-cardiache, in cui nella 3 l'evento renale primitivo è un evento acuto, la classica insufficienza nell'acuta, o per meglio dire, come vedremo dopo, danno renale acuto. La tipo 4 è una sindrome cronica reno-cardiaca, in cui sostanzialmente si parla di tutta la patologia cardiovascolare presente nel paziente che ha una malattia renale cronica. Infine, la sindrome cardinale tipo 5, che è un po' anomala rispetto alle altre, viene anche chiamata come secondaria, perché in realtà si presenta in tutta una vasta gamma di patologie, il tipico esempio era sepsi, in cui l'interessamento di cuore e rene è praticamente simultaneo. Avete parlato prima della patologia, diciamo così, dei quadri clinici di COVID, di infezioni del SARS-CoV-2, sappiamo benissimo che la sepsi è uno degli elementi fondamentali in questa tipologia di pazienti, quelli ovviamente più gravi, nei quali si è proprio il classico esempio di sindrome cardinale tipo 5. Che questa definizione, se ancora da qualcuno un po' osteggiata, in realtà fa un po' botte con il fatto che ormai si tratti di una classificazione abbondantemente e largamente accettata. Ci sono più di 600 paper sull'argomento, anzi adesso forse anche di più. Qui ovviamente ne ho messi solo alcuni di quelli nostri, ma ce ne sono veramente tantissimi. Veniamo adesso a analizzare un po' più nel sottotipo le quattro più che le cinque sindrome cardio-renali. Come ho detto, il tipo primo è una sindrome in cui c'è un danno cardiaco acuto, importante, primitivo, in cui la disfunzione cardiaca e una vasodilatazione sistemica determinano un'impotenzione, l'impotenzione determina una riduzione della perfusione renale, quindi un'ischemia renale. Spesso e volentieri questo quadro si accompagna dall'altro lato a una serie di eventi locali, localizzati a livello renale, per appunto per il deficit di pompa cardiaca, che a loro volta determinano un danno renale acuto. E come vedremo, c'è una distinzione tra danno renale acuto e insufficienza renale acuta, perché il danno renale acuto è l'alterazione, come vedremo, anatomopatologica e fisiopatologica che c'è a livello renale. L'insufficienza renale è quando c'è, diciamo così, la manifestazione clinica di un danno ultrastrutturale. E questa la possiamo saltare. Diciamo che ci sono diversi eventi che possono determinare una sindrome cardiaca di questo tipo. Il primissimo, come abbiamo detto, dei fattori emodinamici, ma in secondo luogo, spesso e volentieri, possono essere anche degli interventi di atrogeni, come per esempio un abuso di diuretici. Poi, come abbiamo detto prima, il ruolo dell'infiammazione in questa tipologia di paziente è di primaria importanza. Come abbiamo detto prima, in questa categoria di pazienti il danno fondamentale sta qui, cioè per un underfilling, cioè un deficit di perfusione a livello dei capillari cromerulari, si determina una riduzione dell'escrezione di acqua, una riduzione dell'escrezione di sodio, che quindi arrivano a livello renale, che non riesce ad esperrlo, ma soprattutto ottenete un aumentato riassorbimento di urea. Tanto è vero che quando avete il paziente classico con una sindrome cardionale tipo primo, noterete che magari la creatinina non è particolarmente elevata, ma quello che è molto elevata è invece l'azotemia. Quello è il classico quadro di una sindrome cardionale tipo primo. Se noi mettiamo insieme appunto la congestione che si è creata e il deficit di funzione renale, come dicevamo, anche all'inizio, possiamo vedere come purtroppo l'associazione delle due cose, linea rossa, determina inevitabilmente la morte o una necessità urgente di un trapianto renale. E se andiamo a vedere l'end point a un anno, notiamo come ovviamente la sopravvivenza nei pazienti che presentano entrambe le cose, cioè sia il peggioramento della funzione renale sia la congestione, è decisamente inferiore rispetto per esempio a chi non ha nessuna delle due cose o a chi per esempio ha solo ed esclusivamente un peggioramento della funzione renale. In questi casi è molto importante trattare i pazienti in una finestra ottimale perché ovviamente non bisogna rischiare di andare ai lati estremi diciamo di una ipotetica gaussiana, cioè di evitare di idratare troppo perché ovviamente poi c'è il rischio di mandarli in edema e dall'altro di non diciamo così di non asciugarli troppo per esempio con la terapia diuretica o con la terapia dielitica perché altrimenti siano tutti i danni dell'ipoperfusione. Quindi questa è la finestra ovviamente ottimale. Come abbiamo detto esistono diversi meccanismi di atrogeni che possono anche spiegarci l'insorgenza della sindrome cardinale tipo primo ad esempio l'abuso di farmaci come la metformina che ovviamente quando non è più indicata l'uso indiscriminato e non controllato di farmaci come antinfiammatori o antibiotici ovviamente i mezzi di contrasto iodati che non sono di per sé stessi un pericolo ma lo diventano quando specialmente il paziente che vi si sottopone è già in trattamento con farmaci particolarmente impegnativi a livello renale un uso indiscriminato e non controllato di inibitori del sistema di angiotensile aldosterone e ovviamente anche un abuso di diuretici come voi ben conoscete tutto quanto questo quadro purtroppo può oltre a determinare un incremento della possibilità di avere un danno in acuto anche la progressione dello scompenso cardievo e il tutto ben si inquadra in un terreno e infiammatorio cronico di questi pazienti per quanto riguarda la sindrome cronica cardiorenale tutto sommato cambia molto poco i fattori sono molto simili i danni sono gli stessi l'unica cosa è che il processo avviene in maniera ovviamente più lenta quali sono i fattori di rischio più importanti per la genesi di una sindrome cardiorenale tipo 1 o di tipo 2 indubbiamente il sesso femminile la presenza di ipertensione la presenza di una frequenza cardiaca particolarmente accelerata ovviamente l'insufficienza renale preesistente e una ipertensione soprattutto di tipo sistolico come potete vedere più aumentano i fattori di rischio più aumenta il rischio di sviluppare una sindrome cardiorenale ma indubbiamente a noi nefrologi e di riflesso anche ai cardiologi quella che interessa molto è la sindrome cardiorenale tipo 3 cioè in cui c'è un danno acuto della funzione cardiaca della funzione renale che ovviamente non svolge più la sua attività e questa le lunga che cosa determina un accumulo di liquidi e quindi un incremento del volume extracellulare che a sua volta determina un scompenso cardiaco acuto ci sono diversi meccanismi che portano a questo sono un po' sempre disoliti in parte ma ce ne sono altri perché ovviamente un paziente con un danno renale acuto spesso e volentieri va incontro a delle alterazioni ematochimiche molto importanti tra cui ad esempio uno squilibrio elettrolitico e un squilibrio dell'equilibrio diciamo uno squilibrio acido base che ovviamente ci determina una tossicità miocardica come ad esempio accade nel caso delle forti acidosi metaboliche dove avviene il danno a livello renale in questo caso avviene sia a livello di arteriore afferente che di arteriore afferente ma soprattutto ovviamente si fa localizzare proprio a livello glomerulare e in particolare se andiamo ad analizzare l'ultrastruttura del rene il comparto più colpito è proprio il tubulo il tubulo dove sapete che avvengono tutti i processi di eliminazione di soluti ma soprattutto di riassorbimento di acqua ed elettroliti un danno tubulare determina ovviamente un passaggio eccessivo di acqua ed elettroliti nell'interstizio che poi arrivano ai segmenti distali del tubulo in qualche modo il rene deve cercare di smaltini ma ovviamente non vi riesce quello che vi dicevo è che è molto importante fare una distinzione tra achi e insufficienza renale cioè tra danno e clinica perché il danno avviene a livello appunto ultrastrutturale e avviene in un punto in cui noi dovremmo cercare di intervenire e cercare di individuarlo affinché poi il danno non prosegua verso la sindrome clinica come fare? indubbiamente in campo renale non è così facile per esempio sappiamo bene che quando c'è un danno acuto cardiaco per esempio di una sindrome coronarica acuta la troponina è un marker che ci aiuta sicuramente nel caso renale la troponina renale effettivamente non esiste non esiste un marcatore che ci possa dire qualcosa di simile o quantomeno non esisteva fino a poco tempo fa adesso qualcosa succede rendetevi conto che questo evento cioè da una situazione di normalità a un danno e all'incremento di alcuni biomarcatori per avere poi alla fine la morte cellulare sembra che passi chissà quanto tempo in realtà l'orologio biologico ci dice che passano meno di 24 ore sostanzialmente e noi dobbiamo cercare di intervenire proprio qui cioè a livello del danno per non progredire poi verso la morte cellulare tempo fa pubblichiamo quest'editoriale cercando appunto ma abbiamo la possibilità di avere un biomarcatore di danno renale acuto non è propriamente così facile in realtà quello che si è visto è che verosimilmente esistono un paio di molecole soprattutto una questa TMP2 acronimo piuttosto particolare ma per renderlo abbastanza diciamo così discorsivo possiamo dire che questo e quest'altro questo è un fattore di crescita simile al fattore di crescita dell'insuline e il sono due marcatori di ciclo cellulare in poche parole sono due marcatori che se aumentano ci stanno dicendo che c'è un arresto del ciclo cellulare delle cellule dell'epitelio tubulare in poche parole sta avvenendo un danno a livello tubulare sono dei biomarcatori che come potete vedere sia a livello urinario sono tutte e due a livello urinario si manifestano piuttosto precocemente e ci danno informazioni molto ma molto più dettagliate rispetto ad alcuni che finora erano stati considerati più indicati come per esempio il famoso Engal del quale forse avete sentito parlare naturalmente questo avviene anche nel caso della patologia da covid-19 perché come voi sapete bene in questa patologia c'è questa tempesta citochimica che alla fine produce quel danno acuto sul quale noi dobbiamo intervenire in maniera preventiva per farsi che poi la patologia non evolva tant'è vero questo è un esempio fatto con Engal ma si potrebbe ripetere anche con questi si diceva che tranquillamente che quando c'era un incremento della creatina associata a un incremento anche di un biomarcatore di questo tipo la percentuale la possibilità di finire in dialisi o di morire o addirittura di entrambe le cose messe insieme cresceva ovviamente all'aumentare della possibilità di avere positivi sia biomarcatori che l'indice di insufficienza renale tant'è vero che spesso e volentieri su quell'associazione è stata anche costruita una classificazione del danno renale acuto che adesso viene più facilmente classificato in questo modo cioè con dei criteri funzionali che sostanzialmente si riflettono nell'incremento della creatinina e nella riduzione della diuresi e dall'altro lato dei criteri di danno che ovviamente sono relativi alla positività dei biomarcatori di cui abbiamo accennato prima questo sostanzialmente ci dice la stessa cosa semplicemente graficata in altro modo ed è importante perché è importante parlare di danno renale acuto perché quando c'è un danno renale acuto e c'è quindi un quadro subclinico attenzione che un danno subclinico in realtà un'Achi subclinica è già un'Achi e se noi sovrapponiamo un paziente che appunto ha avuto un danno renale acuto guardate come questo paziente ha un hazard ratio di quasi 9 di sviluppare una malattia anacronica e un hazard ratio di tre volte superiore di evolvere verso una malattia renale cronica terminale questo è un po' quello che accade normalmente abbiamo un rene che è particolarmente suscettibile a questo tipo di insulto sostanzialmente che può appunto determinarne un danno renale acuto il danno evolve se non si interviene e a questo punto fondamentalmente le possibilità sono tre c'è un danno una riparazione cosiddetta adattativa in cui il rene recupera buona parte della sua funzione che può essere apparente o reale ma sostanzialmente si assesta su un quadro di malattia anacronica dall'altro ci può essere un ricopero parziale della funzione renale e il filtrato scende sotto 60 e alla lunga purtroppo tende appunto a morire quindi il paziente affinia in dialisi o addirittura l'evoluzione può essere tragica sin dall'inizio il rene non recupera e il paziente diventa un paziente dializzato cronico ammesso che esca poi dalla dalla situazione questo sostanzialmente ci dice le stesse cose e quest'altra invece ci dice mettendo in evidenza l'endotelio vascolare soprattutto come il danno a livello dei capillari tubulari dell'endotelio dei capillari tubulari ci può dar luogo appunto a una risposta di tipo maladattativo oppure a una risposta di riparazione invece regolare e di conseguenza il rene recupera totalmente la sua funzione cosa invece accade nel paziente che ha già di per sé una malattia renale cronica ed evolve attraverso i cinque stati della stessa come potete vedere questo paziente ha diciamo così nell'evoluzione della sua patologia per una serie di fattori di rischio iniziali che poi nella maggior parte sono quelli di Framingham che conosciamo tutti si vanno associati dei fattori di rischio più propriamente legati alla malattia renale ve ne faccio alcuni l'anemia nella normalità calcio-fosforo le calcificazioni dei tessuti dei tessuti molli il sovraccarico di acqua e sodio la resistenza all'elitropoietina tutto questo come potete vedere va a colpire praticamente tutti gli organi da un rimodellamento osseo che quindi purtroppo porta a una falsità nelle fratture e alla formazione di calcificazioni a un incrementato catabolismo muscolare questi pazienti spesso hanno un'iperazotemia proprio perché hanno un aumentato catabolismo che si lega benissimo anche alla questione infiammazione cronica c'è una riduzione dell'appetito c'è un aumento delle proteine di fase attiva c'è un incremento della resistenza all'insulina soprattutto in quei pazienti che magari non erano diabetici ma non erano solo predisposti ma un quadro di questo tipo slatentizza la situazione e i pazienti possono andare incontro a un diabete sostanzialmente di tipo 2 questo è quello appunto che avviene sostanzialmente e questa è una diciamo una diapositiva piuttosto storica per noi nefrologi è datata ormai da 24 anni ormai che gira questo lavoro che ci diceva che è importante come la mortalità cardiovascolare nei pazienti con malattia renale cronica come potete vedere nell'end stage renal disease cioè nel paziente che termina in dialisi è superiore alla popolazione generale indipendentemente dall'etnia dall'età e dal sesso e ovviamente incrementa in base all'età questo è abbastanza diciamo così chiaro questo è un altro lavoro leggermente più recente del 2000 pubblicato su Circulation che ci faceva vedere come per riduzione dei quintili di miltratio glomerulare guardate la prima curva fino ad arrivare a sotto i 45 minuti di minuto l'incidenza di rischio di mortalità ovviamente tende a crescere negli anni un quadro particolare ma giusto una diapositiva per ricordarvi che c'è una sindrome cardiorena una cosiddetta cardiolina all'anemia syndrome c'è una sindrome cardiorenale legata ad anemia l'anemia come voi sapete determina l'incremento del lavoro cardiaco dell'output cardiaco che alla fine da un lato determina insufficienza cardiaca e dall'altro rimodellamento ventricolare sinistro che spesso è un rimodellamento di tipo eccentrico questo riassume un po' tutte le interazioni croniche cardiorenali che abbiamo in questi pazienti quello che abbiamo detto a partire dallo stadio di Siche D1-2 fino ad arrivare allo stadio quinto e quindi all'emodialisi mentre come abbiamo detto la tipo 5 è una situazione un po' diversa dalle altre è una situazione in cui come vi ho detto i due organi sono coinvolti quasi simultaneamente in una serie di patologie sistemiche in cui spiccano indubbiamente la sepsi come tipo di patologia più acuta forse rispetto alle altre ma alcune malattie sistemiche come il diabete o come le vasculiti sono altri due esempi classici di quello che accade in una tipologia di sindrome cardiorenale in cui tutto è dominato dallo stress ossidativo e soprattutto da un elevato quadro infiammatorio per un rilascio di elevate quantità di citochine ad azione pro infiammatoria come avviene appunto nella malattia da covid di 19 ricordiamo sempre che questo rapporto anche della sindrome cardiorenale tipo 5 è un rapporto cardiorenale tipo assolutamente bionivoco e mai come in questo caso oltre ad essere bionivoco è anche simultaneo quindi la seconda conclusione che viene fuori da questa chiacchierata è che bisogna dobbiamo tutti ricordare che questo tipo di interazione tra cuore e rene sono sempre bidirezionali hanno un andamento di tipo tempo dipendente e i meccanismi che entrano in gioco sono talmente tanti che magari neanche siamo riusciti ai viscerali tutti e nel tempo ne stanno uscendo sempre sempre più di più copiosi quindi l'obiettivo anche a livello non solo diagnostico ma anche terapeutico quale deve essere? Quello di riuscire a riconoscere le diverse sottopopolazioni di pazienti e i loro fattori di rischio che possono portarli a sviluppare una sindrome cardiorenale soprattutto probabilmente andare a trovare come abbiamo visto prima per quei due biomarcatori dei biomarcatori veramente indicativi di un danno renale precoce oltre che di un danno cardiaco ma lì ce li abbiamo già cercare di isolare subito eventuali fattori precipitanti dalle procedure dei mezzi di contrasto alle trattamenti alle terapie assunte dai pazienti spesso queste due cose vanno di pari passo e cercare ovviamente di individuare eventuali ulteriori meccanismi fisiopatologici che potrebbero permetterci di individualizzare ancora meglio il trattamento farmacologico in questi pazienti vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso ancora per aver dovuto tenere questa lettura purtroppo da remoto grazie mille grazie mille non ti sento Giovanni non so se stai parlando ma non ti sento grazie mille grazie mille grazie mille sono tribunato con questa esaustiva e prezantissima relazione che ora dimostrare le loro capacità ma i grandi progressi che sono stati fatti dalla società di cambio e metodologia conferma ancora una buona l'importanza della correlazione di valore che mi ha parati noi pensiamo tanto in questo contenuto sull'interazione cuore comune ma ho voluto portare il contributo tuo questo nostro simposio per le importanti relazioni tra cuore e rene rifanno anche due accenni al coinvolgimento renale nella SARS-CoV-2 non so se vuoi fare qualche altra notizia sì coinvolgimento renale sì sì se ho tempo sì sì con piacere che diciamo rientra nel coinvolgimento cardiaco nel respiratorio e noi a questo punto ci mettiamo coinvolgimento renale sì assolutamente sì io lì ho fatto giusto una slide diciamo sì un messaggio un po' spot in realtà sì il coinvolgimento renale in corso di infezioni da SARS-CoV-2 c'è c'è soprattutto ovviamente nei pazienti in terapia intensiva come io ho detto sviluppano proprio la classica sindrome cardinale tipo 5 cioè sono dei pazienti settici in cui l'interessamento renale ha nelle diverse casistiche impatta tra il 10% c'è un'insufficienza nella cuta che necessita di trattamento dialitico purtroppo c'è da dire che diciamo così la prognosi di questi pazienti che hanno che sviluppano l'insufficienza renale acuta nel setting di una multi organ failure indubbiamente non è una prognosi molto fausta dal punto di vista renale per quel poco che siamo che sono riuscito a vedere io tu lo sai io lavoro in un ospedale di provincia non grandissimo e a noi abbiamo qua nella nostra ASLEN a Roma 5 l'ospedale di Palestrina che è un ospedale covid in cui hanno una terapia intensiva covid e lì i pazienti che sono diciamo tutto nella prima ondata quella del 2020 che sono stati ricoverati con una multi organ failure quindi anche un'insufficienza renale praticamente quasi nessuno di quelli sopravvissuti e ha evitato purtroppo il trattamento dialitico cronico il danno a livello renale è soprattutto un danno tubulare quindi un danno che interessa le funzioni la capacità di concentrare o di diluire quindi il paziente va in sovraccarico di liquidi perde la funzione diciamo la diuresi fondamentalmente va sostenuto con l'emodialisi ma purtroppo il danno che si viene a creare a livello soprattutto endoteliale porta difficilmente a un recupero io ho visto solo due pazienti recuperare su oltre 30 che ho trattato di questi e purtroppo sono pazienti che o sono deceduti oppure quelli che sono sopravvissuti sono rimasti ne ho tre o quattro da me sono rimasti idealizzati cronici quindi è un danno è un classico danno tubulare che purtroppo ha anche un andamento piuttosto tumultuoso per quanto posso visto che non sono un microbiologo nefrologo con il confinamento ortovea sono un amodo e allora il polmone ci sta in mezzo al cuore e a previ e mi chiedo nelle situazioni gravissime a cui tu hai fatto scena e la classica domanda da ignorante nel più un'eventuale trattamento idrico insomma fluidico è la classica domanda che viene fatta in questi casi e secondo la tua grossissima esperienza deve essere effettuato può essere effettuato cosa preferisci i colori o o di soluzioni elettoridiche in linea di massima non c'è una una differenza clamorosa tra le due cose se ho necessità di espandere il volume va bene anche i colloidi l'importante è dare liquidi a questi pazienti devono essere in qualche modo reidratati e quello è il primo passaggio almeno quello lo tentiamo sempre i colloidi sono sicuramente buoni sono validi noi nefrologi forse abbiamo un po' più di dimestichezza con le soluzioni elettrolitiche la soluzione fisiologica classica però sostanzialmente se il collega rianimatore ha già instaurato una terapia con colloidi a noi non ci crea grossi problemi l'importante è riempire questi pazienti che hanno un letto vascolare sostanzialmente vuoto il problema è che se si riesce a intervenire subito e a riempirli a fare questo refilling immediato immediato nel senso pronto ma non deve essere ovviamente esplosivo ha bisogno di una sua tempistica nella correzione noi riusciamo probabilmente anche a recuperare la funzione renale a meno che non fossero pazienti con una compromissione già della funzione renale stessa ma se sono pazienti che arrivano in terapia intensiva per la patologia da covid avere una funzione renale preservata e si interviene presto con delle soluzioni con la reinfusione questi pazienti sono quelli che sicuramente vanno meglio e recuperano piuttosto in fretta la funzione renale e vengono svezzati dalla dalla terapia dialetica grazie prego grazie grazie a voi scusatemi ancora grazie la prossima che ci parlerà della puliterapia e delle interazioni nelle patologie avanzate nella patologia grazie grazie buonasera siamo eh deciso di più piccola perché pur essendo gli occhi di giusti il fatto che parte dei pazienti anziani pazienti con terapia in realtà poi nella pratica clinica nessuno fa caso del politrattamento e resta un argomento di nicchia nonostante appunto i nostri pazienti nella gran parte siano di età avanzata non vi posso rappresentare studi in doppio cieco o altre cose simili perché in realtà non ce ne sono ma quello che voglio fare è soltanto darvi degli input delle considerazioni su come affrontare questa possiamo dire questa situazione che è sotto i nostri occhi di età avanzata e del fatto che sempre più pazienti ai nostri alla nostra attenzione arrivano con politerapia cioè trattati dai vari specialisti e ognuno guardando soltanto il proprio obiettivo iniziamo con il caso clinico della signora Maria di 81 anni che si ricovera perché ha vertigine e palpitazione sappiamo che soffre di una fibrillazione atriale e che nei mesi precedenti è stata già ricoverata il ritmo sinusale viene ripristinato e la paziente è dimessa ma dopo qualche tempo di nuovo viene ricoverata questa volta in terapia intensiva perché si ricovera una perdita di coscienza in quanto aveva preso per sbaglio un doppio farmaco e quindi era andata in bradigardia sta meglio si ripristina il ritmo sinusale e viene passato in medicina il reparto di medicina la paziente assume otto farmaci regolarmente alcuni di questi anche bisindie e poi le capita anche di prendere lo stesso farmaco più di una volta perché le confezioni sono diverse dal punto di vista della casa farmaceutica quello che possiamo dire sul quadro della situazione attuale della sanità del nostro paese sicuramente il quadro sta migliorando dal punto di vista dell'aspettativa di vita in realtà però sì abbiamo questa compressione della mobilità e della disabilità ma in realtà maggiore il numero di pazienti anziani maggiore è il carico di terapia per maggior numero di patologie che questi soggetti che i nostri pazienti hanno quindi crescente invecchiamento della popolazione e crescente numero di farmaci a cui sono sottoposti e questo dimostrato chiaramente dai dati dell'istat dati recentissimi sono del scorso anno che se confrontati con quelli di venti anni prima ci dicono che i ragazzi giovani di zero quattordici anni erano otto milioni nel vent'anni dopo erano sette milioni e mezzo mentre gli anziani sopra sessantacinque da dieci milioni e mezzo erano passati quasi quattordici milioni e se poi noi prendiamo in considerazione l'indice di vecchiaia cioè il rapporto di quanti anziani ci sono su cento giovani vediamo che nel duemila e due erano centotrentuno nel duemila e venti centosettantanove se poi consideriamo sempre i dati dell'ISTAT le percentuali di pazienti con più di una malattia e soprattutto con malattie croniche vediamo che man mano che aumenta la fascia la fascia di età queste aumentano inesorabilmente e le percentuali perché si passa nella fascia possiamo dire più giovani 65-74 anni le malattie croniche un trenta per cento si arriva per oltre i pazienti di oltre 85 anni un cinquantaquattro per cento se poi vediamo in modo ancora più più esemplificativo cioè gli istogrammi per quanto riguarda la multimorbidità e la cronicità grave gli istogrammi verdi sono il totale vediamo come man mano che si passa come dicevo precedentemente da una fascia di età relativamente più giovane a quella di 85 anni e più questi sono sempre più più alti segno appunto di questo di quanto gravi sulla questa fascia di età le patologie e quindi le terapie dicevo che appunto gli indicatori della salute fino al 2019 sembravano confermare un certo miglioramento tuttavia c'è da fare che una considerazione che un terzo degli opere 75 ha una grave limitazione della propria autonomia e che questo incide negli anziani sulle attività quotidiane e sullo stile di vita praticamente cosa si viene a verificare che migliora la salute degli anziani ma che cresce la domanda di cura e di assistenza inevitabilmente quindi di carico di farmaci e questa fascia di popolazione di cui stiamo parlando è quella che nel corso della pandemia da covid-19 è stata più di tutti esposta alla ricovero in terapia intensiva alla ospedalizzazione e al rischio eh di morte e se è vero eh se è vera la proiezione dell'Istat che nel duemila e quarantacinque eh un terzo della popolazione italiana avrà almeno sessantacinque anni è chiaro che a questo si associa un maggior numero di patologie croniche eh un maggior numero eh di richiesta di assistenza e di trattamenti eh farmacologici riprendiamo sempre la comorbidità in base alle fasce eh di età e vediamo che il 42% 43% degli anziani eh intorno ai 65 anni ha almeno una patologia grave e parlo di ictus tumori di Alzheimer di demenza di malattie cardiache e di malattie respiratorie eh croniche è ovvio che se la patologia è doppia la percentuale è minore tra gli anziani di 75 84 anni una malattia eh grave importante è del 48% se invece parliamo di due malattie croniche gravi e del 19% gli anziani oltre gli 85 anni almeno un terzo dichiara di avere due patologie croniche eh gravi e se prendiamo in considerazione l'indagine epidemiologica della regione Emilia Romagna per l'anno 2016 vediamo che eh gli over 65 occupano impegnano il 63% dei ricoveri il 71% delle prescrizioni farmaceutiche il 51% dell'assistenza specialistica ambulatoriale e il 43% degli eccessi in pronto soccorso oltre che tutta eh una grossa grandissima fetta ovviamente di tutta l'assistenza domiciliare o nell'RSA ma quello che voglio eh sottolineare è che non si tratta eh soltanto di una somma nel senso che eh un individuo con multimorbidità eh somma eh matematicamente ritmicamente le varie patologie ma è come se ci fosse un nuovo una nuova malattia cioè un nuovo fenotipo di malattia che non è altro che il sommarsi del delle patologie e il sommarsi dei trattamenti ovvio che se ci sono tante patologie ci sarà un carico di eh farmaci in Italia il 30% degli over 65 può prendere fino a 10 farmaci attenzione nel 18 erano il 22% e nel 16 erano l'11% segno proprio eh dimostrazione di quello che vi dicevo dell'aumento dell'età media e quindi del maggior numero di patologie e di farmaci un soggetto anziano politrattato con polipatologie eh può andare incontro a dei rischi e almeno due milioni di anziani sono esposti a interazioni farmacologiche particolarmente gravi un altro migliore può andare un milione di soggetti può andare incontro ad errori di assunzione per farmaci inappropriati diminuzione quindi ovviamente dell'averezza eh terapeutica ricoveri in ospedale e mortalità se possiamo dire che il termine e l'espressione della polpere via è un'espressione usata in medicina già da tanti anni già segnalato come un fatto eh importante che poi con la eh transizione demografica usiamo questa espressione che va tanto di moda in questo in questo periodo è ovviamente aumentato qual è la cosa che ci deve mettere in attenzione e che deve far pensare se qualche cosa possiamo fare e dove si deve incidere e sul fatto che le linee guida che noi seguiamo che ci vengono indicate in realtà sono le linee guida concepite per una singola patologia ma un soggetto con più patologie andrà incontro a essere trattato da più linee guida che vedono ciascuna soltanto il proprio settore e già una decina di anni fa e oltre era stata presa in considerazione questa osservazione che la polifarmacoterapia era già di per sé una patologia cioè un qualcosa che si veniva a verificare che portava delle conseguenze e delle complicazioni così gravi da essere addirittura superiori alla patologia per quale noi stavamo dando dei farmaci e quindi sotto certi aspetti dobbiamo considerare un fatto che la politerapia è un male necessario nel senso che se dobbiamo trattare pazienti con polipatologie questi devono essere inevitabilmente trattati e devono assumere inevitabilmente tanti farmaci sempre perché l'orientamento purtroppo è quello verso le singole malattie piuttosto che per nei confronti del paziente quindi su di lui vengono ad accrescersi tutti i vari trattamenti quindi esposizione inevitabile a politerapie senza considerare poi che il cumulo delle terapie possono essere anche inappropriate quindi quando facciamo il conto dei farmaci che il paziente assume l'anziano assume dobbiamo anche considerare e prendere un ragionamento che ci deve pensare ma quel soggetto è in grado di assumere tutta questa quantità di farmaci esiste un rapporto costo-beneficio a favore dei benefici piuttosto che al costo diciamo di danni che questa terapia può provocare ci sono delle basi solide che possono giustificare questi trattamenti e il paziente è consapevole del trattamento che sta facendo quasi che non è soltanto la compliance cioè l'aderenza al trattamento ma è la convinzione che quella terapia che quella sia utile per risolvere la sua patologia e che lui non debba essere costretto alla fin fine ad un dimezzamento del trattamento perché li ritiene non necessari a suo giudizio e infatti qual è il problema che si viene a verificare è sicuramente che con un trattamento così copioso ci possono essere interazioni tra i farmaci o addirittura le azioni avverse questa abbondanza di prescrizione può far sì che i farmaci che possono essere più utili potenzialmente utili non vengano assegnati oppure ci sono dei farmaci potenzialmente inappropriati in questo carico di trattamenti che poi possono avere sull'anziano delle conseguenze negative come un deterioramento cognitivo o causare addirittura delle sindrome geriatriche vere e proprie disturbi del comportamento confusione incontinenza urinaria e tutto ciò si ripercuota poi sull'aumento della istituzionalizzazione addirittura della mortalità e inevitabilmente aumento dei costi assistenziali così per concludere su questo aspetto laddove ci sono tante patologie concomitanti più farmaci prescritti e aumenta anche la il rischio delle interazioni ma per parlare delle interazioni dobbiamo anche considerare qual è la storia poi che un farmaco somministrato nell'organismo va nel senso la farmacocinetica di un singolo farmaco che nell'anziano può subire delle variazioni estremamente importanti e quindi avere delle conseguenze altrettanto importanti normalmente l'assorbimento dei farmaci nell'anziano non subisce delle grosse alterazioni a meno che non ci siano delle patologie gastriche importanti quello che varia invece è la distribuzione e il metabolismo la distribuzione perché negli anziani si ha una diminuzione dell'acqua corporea a causa della diminuzione della massa muscolare e aumento del grasso corporeo e quindi questo si ripercuote sui volumi di distribuzione dei farmaci per quanto riguarda il metabolismo invece fegato e rene ovviamente svolgono la loro parte per quanto riguarda il fegato sappiamo che entra nella questione tutto il gruppo degli isenzimi della citocroma P450 che man mano che passano gli anni diminuisce la sua funzione quindi difficoltà di escrezione e metabolizzazione dei farmaci e sappiamo che fisiologicamente sopra il trentesimo anno di vita si ha una diminuzione della perfusione ematica della massa epatica e quindi una riduzione della attività e della funzione del fegato parimenti possiamo dire per il rene che a partire dal trentesimo anno di età ha una diminuzione della propria attività per una riduzione del flusso ematico ogni anno dello 0,5 1% e questo naturalmente si ripercuote innanzitutto sui farmaci che vengono secreti attraverso il rene penso agli amminiobligosidi ma tutto quello che viene che viene segreto attraverso il rene e sottolineo un particolare che nell'anziano quando dobbiamo valutare la funzionalità genale la cosa importante è conoscere il GFR piuttosto che la creatinina sempre per parlare di interazioni e quindi considerare come farmaci presi comunemente come possono essere i flortiloloni che vengono usati a proposito e talvolta anche a sproposito perché è una classe di farmaci che ha creato ben presto delle resistenze proprio per l'uso non sempre appropriato che ne è stato fatto vediamo come antiacidi tanto per fare il nome ma calcio ferro e zinco tutti questi elementi possono in qualche modo interagire con l'assorbimento dei flortiloloni possono la metoglobinite può aumentare l'assorbimento come anche dei farmaci antivirali come la di danosina per l'HIV possono in qualche modo interagire con l'assorbimento dei flortiloloni come esiste una interazione tra le cipro e la teofillina anche se la teofillina ormai nelle patologie respiratorie viene usata sempre di meno in realtà può causare degli effetti tossici al di sopra di quello che già normalmente succede con l'uso della teofillina dei soggetti che ne possono far uso il problema diciamo della della politerapia nell'anziano si ripercuote inevitabilmente anche sulla ospedalizzazione infatti sappiamo che nel Regno Unito il 6,5 dei ricoveri ospedalieri può essere legato a eventi avversi da farmaco e che addirittura questa percentuale riesce ad occupare fino al 4% dei posti letto disponibili il tutto io lo voglio come dire voglio sottolineare e ricondurlo al fatto che appunto le linee guida che noi siamo portati a seguire a interpretare spesso sono delle linee guida mirate ovviamente per una singola patologia ma che per pazienti con più patologie finiscono per essere soltanto un accumulo di indicazioni che non tengono conto della complessità clinica del soggetto questo lavoro che è un esame delle raccomandazioni di 12 linee guida inglesi mette in evidenza una cosa particolare che forse a pensarci è un po' preoccupante cioè mettendo insieme le indicazioni che ci vengono da queste 12 linee guida sono possibili ben 133 interazioni farmacologiche negative per i farmaci raccomandati per il trattamento del diabete 89 per la depressione e ben 111 per lo scompenso cardiaco quindi queste linee guida se prese così come sono senza una un'asservazione critica possono addirittura portare a queste conseguenze parlo dicevo prima della problematica cardiaca se si pensa che in Italia i farmaci per il sistema cardiorespiratorio sono al primo posto per consumo e per al terzo per spesa farmaceutica mentre i farmaci per le patologie respiratorie si collocano al quinto posto in termini di consumo e al settimo in termini di spesa farmaceutica pubblica qui ci sarebbe da fare un'osservazione come mai il costo e la spesa per la terapia farmacologica della patologie respiratorie sia così basse non so se possa dipendere dal costo minore di questi farmaci o dal fatto che noi sappiamo che molto spesso l'abbandono al trattamento inalatorio dei pazienti di PCO è altissimo comunque un'altra osservazione da fare a proposito del consumo di farmaci e quindi sulla possibilità di interazioni e dei effetti dannosi è la considerazione che noi facciamo sull'uso degli antibiotici in Italia che addirittura al terzo posto pro capite per terzo posto come paese europeo nel consumo di antibiotici è un consumo tale è quello che poi può come dire essere causa di un'appropriatezza prescrittiva o prescrittiva o di posologia perché ogni volta che si tratta di dare un antibiotico all'anziano si ha timore che la posologia non sia quella corretta e si tende a diminuire la quantità di farmaco senza considerare che inevitabilmente il dosaggio deve essere a seconda dell'antibiotico che usi o tempo dipendente o dosi dipendente non è che perché anziano se ne fa una terza categoria questo è indispensabile nel considerare l'uso dei farmaci perché poi la strada dritta maestra fra che si arriva è quella della resistenza agli antibiotici allora andando avanti in questa chiacchierata in questa discussione un altro argomento che va affrontato quando ci troviamo di fronte alla politerapia è che la aderenza al trattamento è sempre più basso che il 70% degli over 65 non assume correttamente i farmaci salta la posiologia salta la quantità di farmaco non segue il bisindio se necessario e questo naturalmente conduce inevitabilmente a recidire ospedalizzazioni o addirittura aumento della morbidità e della mortalità a fronte di questa situazione di cui vi ho parlato in cui ho sottolineato più di una volta il fatto che le singole linee guida sono orientate per una singola patologia piuttosto che vedere il paziente nella sua complessità a giugno dello scorso anno sono state redatte e presentate le prime linee guida italiane intersocietarie sulla multimorbilità e poliformoterapia le prime che hanno messo proprio in evidenza la necessità di considerare il paziente nella sua unità nella sua unità e come tale una persona singola per quale l'associazione di più farmaci poteva essere dannosa se non presa in considerazione correttamente le questioni di guida ad un certo punto presentano vari esempi di inappropriatezza e di gestione non corretta della terapia nei pazienti e fa tre vari esempi io ne ho presi qualcuno di quelli più più nodi gli inibitori di pompa non c'è paziente che non faccia l'inibitore di pompa sappiamo che le linee guida e la letteratura dà delle precise indicazioni all'uso dell'inibitore di pompa uscere gastriche e sofagie e l'indicazione degli elicobacter pylori profilassi delle lesioni del tratto gastroenterico superiore tra le persone che fanno trattamenti cronici con FANZ ma dice esattamente dite la letteratura che un trattamento non deve essere superiore alle dodici settimane perché è un trattamento che viene spesso seguito e lo sappiamo lo vediamo per i nostri pazienti che è fatto indefinitivamente non ha senso e soprattutto il furiero di eventi collaterali di fatti gravi quindi che cosa dicono le linee guida che vi stavo presentando ha fatto una revisione di ben sei trials clinici randomizzati sull'uso degli inibitori di pompa nei pazienti anziani è stato visto che un decremento o addirittura la deprescrizione o deprivatizzazione come preferite voi questo strano termine è possibile anzi è obbligatorio farlo dopo un certo numero di settimane di trattamento e non dovrebbe superare questa tempistica se non in condizioni particolari e passare ad un trattamento al bisogno on demand se necessario quindi quelli che sono dei farmaci che vengono usati a tempo indeterminato possono essere benissimo secondo questa indicazione che una revisione di sei trials randomizzati potrebbero e dovrebbero essere per evitare effetti collaterali sospesi un altro argomento che è sotto i nostri occhi è quello dell'uso delle statine ormai è stato codificato nella prevenzione primaria della patologia cardiovascolare l'uso delle statine come fatto fondamentale anzi alle statine sono state attribuite un innumerevole come si è benefici al di là di quello per il quale sono state indicate in realtà anche questa questa linea guida italiana recentissima fa mettere i paletti nel senso che se escludiamo casi più importanti arrivato a una certa età sottolinea come se non ci sono delle indicazioni particolari oltre gli 80 anni il proseguimento del trattamento non è assolutamente indicato e pone addirittura delle controindicazioni al proseguire il trattamento un'altra cosa che voglio sottolineare sempre del carico non necessario di farmaci è quello dell'uso della vitamina D è un farmaco che viene utilizzato praticamente per tutti e che ogni anno aumenta come spesa sanitaria a dimostrazione che come dire l'uso non sta con l'indicazione corretta e la le indicazioni che ci vengono da queste linee guida italiane che poi sono basate sulla dei rapporti dei dati OSMED recentissimi ci dicono che in realtà se non c'è un dato preciso di osteoporosi non c'è nessuna indicazione a seguire un trattamento con la vitamina D mi è capitato di recente un caso di covid domiciliare al quale il medico aveva assegnato tra i tanti farmaci anche l'uso della vitamina D quindi sto a voi state come come dire le indicazioni possono essere corrette o non corrette sicuramente è un fatto certo che soltanto anziani con multimorbilità e con diagnosi di osteoporosi sono indicati come pazienti da trattare con questo con questo farmaco o che sono a rischio di cadute o di fratture perché sono come di cadute se sono istituzionalizzate o fratture accidentali anche l'AIFA ha messo su un gruppo di studio per valutare la proprietà prescrittiva e ha visto come un anziano su due oltre i 65 anni in Italia assume da 5 a 9 farmaci al giorno che quasi il 65% il 60% della popolazione oltre i 65 anni manifesta scarsa aderenza al trattamento anche se ci troviamo di fronte a patologie come la depressione l'ipertensione il diabete l'osteoporosi che 36.000 anziani sono esposti a possibili rischi per l'assunzione di due o più farmaci anti-arittimogeni che il 22.000 sono esposti a pericoli di sanguinamento perché prendono farmaci pro-emorragici e 85.000 sono rischi di insufficienza renale perché prendono contemporaneamente tre farmaci nefrotossici e quindi per concludere sottolineo quello che ho detto più di una volta che nelle linee guida c'è una discrepanza tra la prescrizione secondo le linee guida secondo quelle che sono le indicazioni che ci vengono dalla letteratura internazionale e la complessità clinica che i pazienti presentano a loro alla età avanzata quindi questa discrepanza che sta alla base poi di quella che è la possiamo dire la malattia da poliprescrizione che altro che vuol dirvi che il problema è che le stesse linee guida che noi utilizziamo in realtà sono linee guida che non hanno preso in considerazione nella loro estensione del fatto che sono spesso rivolte a pazienti anziani che sono quelli che usano di più i farmaci in realtà poi quando si fanno gli studi randomizzati gli studi atti a dimostrare la validità di un farmaco ci sono dei paletti ben precisi che sicuramente escludono pazienti oltre una fascia di età e in genere sono i 60-65 anni quindi c'è una discrepanza evidente tra gli studi e la real life cioè un qualcosa che sta alla base di questa discrepanza e poi l'ultima considerazione che faccio è che la sfida più grossa di questi anni futuri sarà proprio quella di dedicare una parte della ricerca scientifica e della alla questa fascia di popolazione che è la popolazione anziana che sarà quella che più di tutte avrà bisogno di assistenza e di trattamenti in base a una come dire una fascia di età particolare che clinicamente si presenta con delle caratteristiche simili alle altre ma con una come dire fisiologia diversa grazie grazie che stiamo grazie grazie è un problema che si basa che è più come anche della nostra incapacità la nostra ignoranza sulle relazioni e la relazione tra i loro è molto giusto il concetto della relazione di la paracazie e non la sincola credo che sia in preghia comunque siamo tutti i miei che amonano i pazienti questi uno che ogni specialista ne scrive i farmaci senza chiederti altre lezioni non c'è nessuno che fa e vi ascolta non fa bene secondo che è bello che i farmaci senza vedere se i pazienti in grado li assumono se in realtà li assumono orari che è scritto nelle le cose 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 i farmaci sono doppi questo non lo credo più e le line vanno alcuni che magari sono contabilizzati terza considerazione c'è una cartina durina da parte di noi che si prescrivevi in un di 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 che si si di 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 che sono a caso che poi non sono un effetto eccessivo perché non vengono di una mobilità, quindi si accumulano quindi si succedono, le cose di un slide, e poi un'altra cosa che mi scongetta, lo dico sinceramente cioè non mi toglie quel paziente in realtà improvvisamente la mente e allora mi dico, mi fermo perché ti hanno iniziato ma se la città lo so ti fanno bloccato dal settore di porta ti fermo, non ti renderà mai fermo, non ti renderà mai assentito, e questo ce lo dimentichiamo, e poi diventa lento che noi vediamo troppi vasi, se poi verrà c'è un po' alto, allora vediamo l'editore cioè noi facciamo degli intrumi con dei fatti che sono veramente allucinanti uno ci pensa ti riflette quindi dovremmo veramente fare mea culpa e poi studiare bene tutta l'indirazione economica per esempio dobbiamo avere al centro il paziente e non esiste giallo non lo sai quando ti conosce è così tardi non lo sai non era di grande quando scelto questa relazione sai che non era di grande di grande lustro non c'erano trials da presentare o studi randomizzati su un grosso numero di pazienti ma è una cosa concreta che sta alla nostra attenzione e che poi nella vita quotidiana in quella che è la nostra attività quotidiana si scontra e si incontra e quello dell'inibitore di pompa è quella la più diffusa e tu hai citato l'assorbimento eccetera tu pensa che la barriera gastrica e il pH gastrico inibisce lo sviluppo di certi germi e quando noi ci troviamo incontro a dei casi di infezioni catastrofiche come quelle ospedaliere e sono pazienti allettati chiaramente sono pazienti fragili chiaramente ma in realtà la inibizione dell'acidità gastrica nello sviluppo di queste infezioni batteriche ha avuto la sua importanza importanza e poi un'altra cosa non siamo in grado di parlare con i nostri pazienti che ci chiedono l'inibitore di pompa e noi a condicendente scriviamo si lo faccia ma nel timore che chissà possa succedere qualche cosa e allora mi fa storie ma in realtà dobbiamo essere noi che sappiamo quelle cose che possono succedere e non quelle che ci possono venire successivamente e ho preso nell'inibitore questo qui delle cose che uccidano proprio perché mi sembrava quello più evidente con più spessore dal punto di vista della casistica insieme poi a quello della vitamina D che è impossibile soprattutto se basta vedere i dati OSMED recentissimi quanto è schizzato l'uso di questa di questa cosa devo dire che ci sono delle purtroppo degli scritti che parlano del vantaggio della vitamina D in tutte le patologie possibili immaginabili dalle neoplasie a a tutto però sono dei casi report sono delle osservazioni ma sono la diciamo l'uso rutinario e questo è quello che dovremmo cercare di affrontare quotidianamente posso? posso dire un ultimo poco? parliamo una parola al collega per risolvere una cosa io mi ricordo che il primo paziente è di 17 decine di paese allora io lo progetto secondo me che è stato 4 così posso svegliare i nostri testi rimani io mi ricordo che sta nella organizzazione sbagliare la di un po' speciale ognuno che mi presenta il suo dai due parli c'è un sito che cosa faccio il ruolo che mi dovrebbe valutare molto è il tempo di famiglia dove fare una sintesi tutte queste cose tuttora parliamo un po' che la 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 d'accordo d'accordissimo è una considerazione che da questa sono la vitamina D perché io adesso non so la vostra esperienza ma molti dei pazienti che vedono da me con gli esalti già fatti hanno livelli bassi di vitamina D che non sono giustificati né la patologia né la metà c'è in tutte le classi di età una carenza sistematica di vitamina D ti faccio una domanda allora io ti chiedo sono forse il vento ma spostato dobbiamo considerare gli esami a prescindere dal paziente cioè che senso ha tutto questo e poi ti rispondo è un'altra cosa sono gli integratori va di nuovo della medicina migliorativa che è una cosa che a me da fastidio ma che poi non passa la caratterizzazione che è evidente allora mi chiedo tutti questi integratori che vengono assunti perché la pubblicità partellante ti porta ad assunti e poi loro vengono a chiedere dal mezzo ma dove ci stanno portando veramente noi abbiamo bisogno di integrare la nostra alimentazione la nostra vita con tutto questo sostanzo che sono già abbondantemente presenti in quello che mangiamo io ho paura che cacciava dei danni l'integratore gli integratori contengono ioni e ferro zinco che impediscono l'assorbimento di pinolonici tanto per dire e quindi un trattamento antibiotico fallisce stop un'altra cosa ti voglio dire ma il riscontro come dato di laboratorio di una carenza di vitamina D automaticamente ti impone la prescrizione della vitamina no e questo è il problema evidentemente se non c'è se non c'è una correlazione clinica e se non c'è il motivo per cui tu hai chiesto quella cosa lì e poi un'altra cosa chiedo il dosaggio ematico è quello che effettivamente corrisponde alla situazione reale in quell'organismo no e però a questo punto Giovanni dovremmo essere in grado di dire no al paziente perché poi questo è il problema no prego nonostante noi c'è un problema io come indeggiata lo vedo spesso che noi siamo anche tutti parenti cioè nel senso che con la pescina diensiva ormai non 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 però con la pescina di parenti stessi chiedono a poi che lo va perché noi siamo poco avanti quindi bisogna anche di postare il rapporto con i parenti secondo tutti che 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 abbiamo una esattiva discusione prima di presentare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un saluto a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di rimanere fino a quest'ora. Prometto che starò perfettamente nei tempi perché mi sono anche allenato, quindi vi libererò rapidamente. L'argomento che mi ha stato assegnato è un argomento sicuramente molto complicato. Ringrazio però chi ha inventato questo titolo perché mi ha consentito un pochino di scegliere e di spaziare un pochino su alcuni di questi aspetti perché è difficilissimo in 20 minuti, mezz'ora di poter parlare di tutto. Io mi dedicherò particolarmente soprattutto alla ventilazione meccanica come procedura di tipo palliativo nelle patologie respiratorie avanzate e di palliazione. Quando noi parliamo di cure palliative normalmente pensiamo, ed è l'opinione corrente, che si tratta di quelle terapie che vengono praticate e vengono effettuate nelle fasi in cui le cure vere e proprie, cioè le cure terapeutiche, sono fallite e il paziente procede in maniera inesorabile verso l'exitus. Ora, questo è vero, però il concetto di cure palliative è sicuramente più ampio, in quanto le cure palliative vere e proprie sono una serie di interventi che servono ad alleviare i sintomi, a appoggiare e sostenere il paziente e i propri familiari lungo tutto il decorso della malattia respiratoria cronica, al termine delle quali possiamo ipotizzare il discorso delle terapie palliative di fine vita. Quindi diciamo che le cure palliative di fine vita rientrano nel concetto generale delle cure palliative. È stato addirittura ipotizzato una traiettoria, ed è questa la traiettoria che comunemente viene stata accettata ed è stata molto spesso applicata. Una traiettoria nella quale dall'inizio della malattia il paziente respiratorio cronico effettua le cosiddette cure terapeutiche. A un certo punto le cure terapeutiche non hanno più efficacia, vengono sospese e si passa alle cure di fine vita. delle vere e proprie cure palliative. Tanto è vero che è stato addirittura ipotizzato un metodo per calcolare il passaggio da una fase all'altra. In questo studio, come vedete, vengono esposti degli indicatori. Feb 1 è inferiore al 50% del predetto, la dipendenza dall'ossigeno, le riacutizzazioni ripetute nell'anno precedente di malattia, l'insufficienza cardiaca sinistra, la perdita di peso, la cagassia, eccetera, eccetera, la presenza di due o più di questi indicatori predicono la morte entro sei mesi. Per cui quello è il momento in cui scatta il passaggio, scatterebbe il passaggio da una fase all'altra. Nel frattempo però i concetti si sono un pochino, diciamo così, modernizzati. Da questo, diciamo così, da questa traiettoria così radicale si è passata alla cosiddetta traiettoria di tipo triangolare che vedete nel pannello B, nel quale all'inizio della patologia, della malattia respiratoria cronica, il paziente viene trattato con la terapia, chiamiamola così, eziologica, vera e propria. Man mano che la malattia procede nel suo decorso inesorabile, praticamente le cure terapeutiche diminuiscono e aumentano le cure palliative che poi predominano alla fine della malattia, prima della morte. Ma modernamente adesso si accetta quello che viene esposto nella traiettoria numero C, quella che vedete dal punto C in basso praticamente, nel quale le cure palliative dovrebbero iniziare insieme e contemporaneamente alle cure cosiddette terapeutiche e seguire il decorso della malattia anche durante le riacodizzazioni, ad esempio come può avvenire il paziente BPCO, incrementando la loro, diciamo così, la loro presenza anche nei casi di riacodizzazione. Ma a un certo punto, come per esempio può succedere nel paziente oncologico in fase end stage, quindi nella fase di hospice, praticamente c'è una riduzione e poi un annullamento delle cure terapeutiche e un aumento progressivo delle cure palliative che dovrebbero seguire la famiglia anche dopo la morte per l'elaborazione del lutto. Questo adesso è il modello, diciamo, teoricamente e idealmente più utile. È ovvio che questo tipo di approccio necessita di un team multidisciplinare, ovviamente, quindi che deve comprendere il medico, il fisioterapista, nel caso nostro ovviamente si tratta di malattie respiratorie croniche, si parla di premuologo ovviamente, fisioterapista, infermieri professionali, psicologi, assistenti sociali, case manager e quant'altro. Quanto costano? Prima Alfonso Dattieri ha fatto un discorso di ordine economico. Ebbene, è stato visto che ogni anno l'1% dei residenti assorbe più del 20% dell'intera spesa sanitaria e la maggior parte, la quasi totalità di questo 1% è costituita da persone che si trovano nell'ultimo anno di vita. Quindi si tratta di un impegno economico sicuramente molto molto importante. E questa spesa sanitaria è dovuta soprattutto all'assistenza ospedaliera. Questo è uno studio in cui viene tratteggiato l'impegno economico nell'ultimo anno di vita di un paziente premuologico, praticamente. Come vedete, c'è un'impennata negli ultimi due mesi di vita di questi soggetti, praticamente, con un impegno economico che è soprattutto dovuto alle spese di assistenza ospedaliera, quindi accessi al pronto soccorso, ricoveri prolungati e quant'altro. Questo dimostra come ci sia una mancanza, soprattutto, di una gestione di questi pazienti a livello territoriale e a livello domiciliare. Detto questo, abbiamo detto che le cure palliative hanno soprattutto l'obiettivo di ridurre e sollevare questi soggetti dai sintomi, che nel caso del malato premuologico è soprattutto la dispnea. La dispnea, che qui esistono due documenti, due statement, uno dell'ATS e l'altro a destra dell'American College, in cui viene a sinistra l'ATS esplicita in maniera, diciamo così, abbastanza dettagliata qual è il tipo di intervento per sollevare il paziente dalla dispnea a seconda dell'intensità della dispnea stessa. Noi ci riferiamo soprattutto a quella della dispnea severa, che è quella che rientra, diciamo, a maggior diritto nel novero della palliatività. Come vedete, tra i vari interventi proposti, ritenuti efficaci, c'è la riabilitazione, il supporto psicosociale, l'utilizzo di terapie farmacologiche, soprattutto gli oppiacei e gli ansiolidici, ma anche la ventilazione polmonare. E a destra, l'American College propone, per dare sollievo alla dispnea nei malati respiratori cronici, propone interventi di tipo riabilitativo, come la riabilitazione al labbro socchiuse e le tecniche di rilassamento diaframmatico. Anche qui propone la ventilazione meccanica non invasiva, che può essere efficace nel dare sollievo alla dispnea di questi soggetti. Tant'è vero che, seguendo questo tipo di modello, la NIV, in questa linea guida della Società Americana di Critical Care Medicine, propone tre tipi di intervento possibili per quanto riguarda la NIV. Il tipo 1, e quello più conomente usato, è la NIV per supporto vitale. è un supporto vitale che viene erogato senza limitazioni di terapia, nel senso che, se necessario, il paziente può dare il consenso all'intubazione. Il secondo tipo sono i pazienti che rifiutano l'intubazione e quindi richiedono alla NIV la NIV come salvataggio, con lo scopo di vivere il più possibile. Infine, il tribo terzo, che è la palliazione vera e propria, ha semplicemente lo scopo di sollevare il paziente dai sintomi senza avere come obiettivo un aumento della sopravvivenza. Questo è il vero e proprio tipo di trattamento di tipo palliativo, in quanto la NIV può migliorare la sopravvivenza, migliorare la qualità della vita e anche la qualità della morte, migliora la comunicazione e oltretutto consente al paziente di poter risolvere dei problemi aperti, ovviamente. Ci sono anche dei contro, perché praticamente può incrementare la sofferenza, aumento dei costi ospedalieri, ma soprattutto anche la depressione e l'ansia. Criteri, obiettivi e attenzione dell'applicazione della ventilazione meccanica a scopo palliativo. Anzitutto deve rispondere a precise finalità di tipo etico, quindi deve avere una vera e propria finalità palliativa. Deve essere applicata da personale esperto, ovviamente. Deve essere applicata dopo un'adeguata informazione a cui il paziente e la famiglia deve essere sottoposto e quindi deve ottenere la volontà del malato, praticamente, a cui va spiegato che la NIV in questo tipo di applicazione non ha l'obiettivo di farlo vivere di più, ma può soprattutto di farlo vivere meglio. E poi, in caso di fallimento, bisogna scegliere anche strategie alternative che sono i farmaci oppiacei e la morfina. Adesso vediamo rapidamente che cosa ci dice la lettura dura nell'applicazione della NIV a scopo palliativo nelle varie patologie polmonari. La prima di cui abbiamo già parlato, la BPCO, me la potrei cavare semplicemente con questa revisione sistematica nella quale sono stati presi in considerazione i lavori in cui la NIV è stata applicata come trattamento palliativo nelle patologie respiratorie in fase avanzata. La maggior parte dei lavori comprendono pazienti BPCO. Dice che la ventilazione meccanica non invasiva come palliazione è un intervento fattibile, funziona nel 50-70% di classi e dà veramente sollievo per quanto riguarda la riduzione della dispnea. Questo è invece un lavoro che fa vedere l'efficacia della NIV in confronto all'ossigenoterapia in pazienti quarto stadio BPCO a livello domiciliare. Si vede che c'è una riduzione della dispnea molto superiore, significativamente più elevata per quanto riguarda la NIV. Questo invece è un lavoro interessante perché si parlava prima di comunicazione, quindi di poter interagire in maniera dettagliata con il paziente per quanto riguarda soprattutto la spiegazione di quello che noi vogliamo ottenere quando applichiamo questo tipo di presidio terapeutico. È una multicentrica del gruppo Maugeri, primo nome è Annalisa Carlucci, ha ripreso i criteri che abbiamo visto prima per stabilire la terminalità del paziente più o meno, praticamente, e hanno arruolato circa 99 pazienti quando questi pazienti avevano almeno due dei fattori maggiori o almeno due dei fattori maggiori più uno minore. È stato visto che nonostante ci fossero 99 pazienti che avevano i criteri per essere elegibili in questo studio, solo 43 hanno accettato di partecipare. Lo studio comprendeva semplicemente una informazione dettagliata sulle procedure che i medici avrebbero voluto applicare consentendogli ai pazienti di scegliere fra tre tipi di intervento, fra l'ossigenoterapia più morfina, fra la NIV valiativa oppure l'intubazione oro-tracheale con ventilazione meccanica di tipo invasivo. veniva spiegato a questi pazienti in maniera singola ovviamente le finalità, le procedure, che cosa significava ogni tipo di trattamento e poi alla fine veniva lasciata al paziente la scelta. Alla maggior parte, come vedete, aveva scelto la NIV. C'è da considerare che si trattava di pazienti BPCO in fase finale, in fase terminale della vita e quindi la maggior parte di questi conosceva già bene la NIV perché magari l'aveva già praticata in precedenti episodi di riacutizzazione. Ebbene, il giorno dopo che è stata fatta questa informativa hanno fatto una specie di esame praticamente chiedendo di ripetere ai pazienti il significato della scelta che avevano fatto. Ebbene, solamente il 40% dei pazienti aveva capito bene che quello che gli era stato detto, soprattutto quelli che avevano avuto maggiore defiance erano quelli che effettuavano il trattamento con ossigeno e più morfina. C'è da dire che, alla conclusione dello studio, era che purtroppo nonostante ci fosse stata una informativa dettagliata e diciamo così, è molto attenta problemi di ordine culturale impedivano sicuramente la possibilità di scegliere. Tutti i pazienti comunque alla fine sono deceduti nello spazio di sei mesi come a dimostrazione che quell'algoritmo precedente funziona. Malattie neuromuscolari allora, malattie neuromuscolari molto spesso danno insufficienza respiratoria e molto spesso questi soggetti muoiono per insufficienza respiratoria acuta magari successiva a una polmonite come vedete ci sono vari tipi di patologie la SLA, come le malattie del moto neurone la SLA, la sindrome di Guyon-Barré la miastenia per quanto riguarda l'aggiunzione neuromuscolare le miopiatie vere e proprie distrofie miotoniche, la duchenne tutte quante possono dare insufficienza respiratoria. È stato visto, questa è una revisione praticamente nel quale è stato, in base alla letteratura sono stati evidenziati i tempi di sopravvivenza di soggetti che applicavano o non applicavano la NIV dall'inizio della malattia. I soggetti che non effettuavano NIV per rifiuto per esempio avevano una sopravvivenza media dal momento della malattia di 15 mesi. I soggetti che effettuavano la NIV ma avevano delle persistenti apnee di tipo costruttivo avevano una sopravvivenza di poco superiore i soggetti che effettuavano la NIV ma avevano delle perdite persistenti vivevano comunque di più, 27 mesi come vedete i soggetti invece che avevano NIV senza perdite e senza apnee costruttivo avevano una sopravvivenza ancora maggiore si ipotizza sicuramente una assistenza maggiore quando oltre a tutto questo c'era una adeguata gestione delle segrezioni tramite la macchina della tosse di Nexufledor praticamente e ovviamente il tipo di trattamento che dà maggiore probabilità di sopravvivenza a lungo termine qui si parla di sei anni erano i soggetti che vengono tracchitomizzati effettuavano la ventilazione meccanica di tipo invasivo. Questo è uno studio di sopravvivenza e di qualità della vita che è un po' datato ma è un classico praticamente nel quale fa vedere come NIV più pure standard hanno una maggiore probabilità di sopravvivenza soprattutto nei soggetti in basso a sinistra che non avevano grossa compromissione di tipo bulbare è una sopravvivenza quindi di tipo significativo dal punto di vista statistico è lo stesso comportamento per quanto riguarda la qualità della vita quindi in soggetti selezionati ovviamente in un certo periodo della traiettoria della patologia la NIV ha sicuramente un effetto importante questo è un altro studio ed è l'ultimo che vi presento per quanto riguarda questa patologia questo studio fa vedere una serie di protocolli diversi di trattamento di queste patologie utilizzando la NIV allora c'è lo studio con terapia ottimizzata in cui i soggetti, il primo pannello a sinistra iniziano la NIV anche quando la funzione polmonare era abbastanza conservata quando avevano una capacità funzionale una capacità vitale forzata superiore all'ottanta per cento del predetto ed erano pazienti che usavano la NIV più di otto ore al giorno usavano anche l'assistenza da tosse tramite linea suffleto e questi avevano una sopravvivenza media di 30.8 mesi poi c'erano dei soggetti in cui questo tipo di protocollo era un pochino mitigato era diventato più gentile utilizzavano iniziavano la NIV quando la capacità funzionale la capacità vitale forzata era inferiore al cinquanta per cento secondo quello che dicono la maggior parte delle linee guida in questo senso l'utilizzo era però ridotto a più di quattro ore più di otto e usavano però linea suffleto in questi casi c'era un leggero decremento dell'assistenza poi ci erano dei soggetti in cui effettuavano lo stesso tipo di trattamento ma senza assistenza da tosse si riduceva in maniera radiodrastica a dimostrazione di come questi soggetti vanno gestiti anche dal punto di vista delle secrezioni perché molto spesso muoiono le polmonite e infine c'erano quelli che non fanno nessun tipo di intervento praticamente la sopravvivenza come vedete è molto ridotta 13 mesi non facevano la bipappa o perché la declinavano il soggetto rifiutava di partecipare oppure perché le assicurazioni non la riborsavano questo è uno studio americano ovviamente non italiano per fortuna conclusione è una misura di supporto essenziale nei malati neurofuscolari c'è un beneficio clinico nell'applicazione della rib sia per quanto riguarda la sopravvivenza sia per quanto soprattutto se viene associato all'assistenza alla tosse e chiaramente anche in questi casi è essenziale la comunicazione l'inoplasia in fase terminale c'è questo bellissimo studio di una di una multicentrica che è capitanata da Stefano Nava in cui un gruppo di pazienti erano circa 200 pazienti sono stati suddivisi in maniera randomizzata in due gruppi un gruppo che effettuava ossigenoterapia e un gruppo che effettuava invece NIV praticamente questi due gruppi a loro volta erano stati divisi in due sottogruppi pazienti normocapnici e pazienti ipercapnici l'outcome era la riduzione della disnea allora pannello a sinistra le palline rosse sono le persone i soggetti trattati con la NIV quelle blu quelle trattate con l'ossigeno c'è una riduzione significativa della disnea nei soggetti trattati con la NIV e soprattutto vedete a destra nei soggetti trattati con la NIV ipercaplici questo dato della riduzione della disnea veniva accompagnato anche a una riduzione pospicua e significativa dell'utilizzo della morfina come vedete c'era una riduzione in termini di milligrammi giornalieri della morfina nel gruppo dei soggetti dei soggetti che effettuavano la NIV rispetto a quelli che effettuavano l'ossigeno terapia questo chiaramente è un vantaggio grossissimo perché questi soggetti ovviamente non facendo la morfina avevano maggiore possibilità di interagire di comunicare magari con i familiari un altro studio che è più recente dice più o meno la stessa cosa solamente che in cui in questo caso la NIV è stata confrontata con gli alti flussi anche qui l'outcome è la riduzione della disprenia tramite due scale quella a sinistra l'NRS e quella a destra tutti e due i presidi terapeutici riducevano la disprenia in maniera significativa utilizzando tutte e due le scale facendo un confronto statistico fra però i vantaggi della NIV rispetto agli alti flussi erano gli stessi non c'era differenza significativa quindi gli alti flussi possono costituire un'alternativa alla BIPAP nei pazienti oncologici in fase end stage ultimo e poi andiamo alla conclusione sono le malattie intestiziali del formone in fase terminale non c'è molto in letteratura c'è questo studio di via devo tornare indietro perdono oddio sono davanti vado tornare indietro ancora dietro dietro ecco ancora lì vabbè vado avanti allora sono 18 pazienti con malattie intestinziali del formone in fase terminale che sono stati trattati con NIV fin dall'inizio dell'ingresso nella terapia semi-intensiva questo è uno studio di Andrea Vaianello praticamente ebbene di questi soggetti 18 erano 18 8 la NIV aveva avuto successo 10 invece la NIV aveva avuto fallimento ed erano stati intubati praticamente allora i pazienti intubati sono morti tutti entro 20 giorni praticamente invece quelli che avevano avuto successo sono vissuti molto di più 18 giorni versus 90 quindi con una differenza statisticamente significativa sono andati a vedere pure se c'erano dei criteri di tipo predittivo all'inizio all'ingresso in terapia semi-intensiva che permettessero di identificare quali fossero i pazienti che rispondevano con successo e quelli invece che fallivano e avevano trovato che la differenza era i livelli di pro-BNP all'ingresso i pazienti cioè che morivano avevano dei valori di pro-BNP molto elevati qui si parla di integrazione cuore-polmone questo è un esempio credo significativo proprio in questo senso allora si era parlata pure di fisioterapia la riabilitazione cosa può fare adattando quello schema che abbiamo visto prima la riabilitazione è uno dei presidi che dovrebbe rientrare nella falliazione fin dall'inizio della malattia ovviamente anche qui con l'incremento nei casi di diciamo così di riacutizzazione e lasciare posto poi alle cure palliative nella fase terminali con questo tipo di interventi allegamento della dispnea gestione delle secrezioni l'abbiamo già visto l'allegamento del dolore e la gestione dell'ansia sono i quattro obiettivi in cui il fisioterapista riveste un ruolo importante questa è la conclusione perché è una revisione narrativa che ci dice più o meno tutto quanto quello che abbiamo detto fino adesso e la NIV è un'ottima possibilità per gestire l'insufficienza respiratoria acuta sucronica nelle fasi avanzate di varie patologie respiratorie soprattutto c'è una forte evidenza a favore del suo utilizzo nei BPCO e nelle malattie neuromuscolari in fase terminale pochi studi nelle interstiziopatie e infine è raccomandata per gestire la disprenia delle patologie oncologiche in fase avanzata importante come al solito e questo è una cosa che va sempre di patita e stressata la comunicazione l'informazione e il consenso del paziente e ho finito vi ringrazio grazie a tutti grazie grazie a tutti 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 sono un intervento complesso che siccome si tratta di una apologia cronica che in tempi più o meno lunghi va in conto all'exodus ora che tu devi 10 anni 5 anni o 2-3 mesi il paziente respiratore che affetta la malattia prima o poi morirà non so, probabilmente per complicazioni per insufficienza respiratoria acuta quindi le cure per la terza dovrebbero iniziare insieme alla malattia quando viene fatta la diandesi chiaramente in maniera di plant poi sempre più intensiva man mano che procede l'idea di diagnosi ma anche quelle di fine vita sono pure la radia ovviamente è un contenitore in cui ci sono anche le cure di fine vita è un'altra cosa che credo è un'altra cosa che credo è un intervento del punto di vista perché è un'altra cosa che non è un problema che 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 ci sono Kifre della la legge espressamente evoluzione che permette la pianificazione molti vita delle due è un processo lungo e poi non è quello è un processo a quale non ci dobbiamo di portare volontà aggiungo che è uscito un documento anche di Algo e sì perché è proprio italiano di Pagliadiva proprio sulla gestione Pagliadiva e quindi ci sono anche tutte le normative le citazioni di ordine legale insomma sì sì Grazie. 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 A domicilio ho trovato buonissimo l'utilizzo di NIMP a livello domiciliare nei pazienti respiratori, soprattutto nei BPC-O. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.